Buonasera a tutti. Allora saluti a tutti. Siamo veramente felici di averti qui stasera, a Leonello. Questo devo dire che è il merito di Massimo. Massimo ha voluto fortemente l'incontro con te e ci ha spinti già molto tempo fa a leggere e a studiare attentamente il tuo testo e noi l'abbiamo fatto. Porto la parola del professor De Masi che ci raggiungerà il più presto possibile. Purtroppo ho avuto un impegno e quindi a un certo punto si collegherà con noi e resterà con noi per tutto il tempo necessario. Quindi niente, io volevo soltanto dire questo e devo dire che il libro per me è stato straordinariamente interessante. L'ho letto tutto ad un fiato e mi è piaciuto in tantissimi punti, quindi poi penso che ci sarà modo di farti tutte le domande che ci siamo un po' già preparati per poter entrare ancora più in profondità. Però a questo punto Massimo, se vuoi dire qualcosa tu, non so se tu hai già raccontato chi siamo e quali sono le nostre, qual è il nostro metodo, diciamo. Penso di sì, penso di quello che hai fatto già. Quindi magari possiamo già cominciare. Allora io intanto aspetterei qualche altro minuto. Volevo dire, Leonello, il tuo amico Luca, Luca Raiteri, che mi ha iscritto, che vorrebbe partecipare. Puoi farlo partecipare? Basta che sappiamo il nome lo facciamo entrare. Quindi se vuoi mandargli un messaggio siamo disponibili. E poi niente. Sì, esatto. Grazie mille. Cioè Luca Raiteri mi ha pregato di chiedere se può partecipare. Io gli ho già risposto che vi avevo chiesto a voi e adesso lo informo, ma lo informo col telefonino così non faccio pasticci. Bene. Erminio Resecotti è invece già con noi. Allora c'è Erminio Resecotti, a chi aveva chiesto di poter partecipare, però Nicola Ragno che ha detto che purtroppo sarà costretto probabilmente ad essere in ritardo. Va bene. Noi tanto teniamo... Però Erminio dovrebbe... Adesso informo Luca Raiteri del vostro consenso. Certo. Lo faccio via telefonino così non tocco... Ci sono altri amici nostri che devono ancora arrivare? A parte... Stavo cercando di contattare l'avvocato Sturni che mi aveva detto che avrebbe partecipato. Io gli ho mandato l'invito, ora lo sollecito via WhatsApp e gli dico che stiamo cominciando. Paolo, i tuoi contatti? Ecco, avvisato Luca. Per questa sera i miei contatti non ci dovrebbero essere. Forse... Almeno sicuramente uno no. L'altro sto aspettando risposta, quindi se mi dà risposta positiva lo aggiungo, lo avviso tranquillamente. In progress. Ok, allora a questo punto Leo, noi preferiamo, noi tutti preferiamo stare con te ad ascoltarti anziché seguire l'Italia che gioca contro la Svizzera. Cioè, penso un po' che livello di follia, no? Che livello di matti. Cioè, hai trovato 15 matti, più matti di te praticamente. E quindi ti do volentieri la parola e ti ascolto con piacere. Prego. Ecco, bene, grazie mille dell'invito a parlare di democrazia diretta. Io sono qui in una cittadina svizzera che si chiama Lelocl. Dopo vi farò vedere anche un'immagine del posto dove mi trovo. Sono qui da 23, da 24 anni e la ragione per il mio venire qui non era politica. Dovevo insegnare macchine utensili in un piccolo politecnico di montagna. e però poi sono stato coinvolto nell'attività politica anche locale. Ve ne parlerò dopo, ma questa esperienza mi ha dato moltissimo perché mi ha consentito di conoscere la democrazia diretta come applicata in Svizzera, ma anche altre caratteristiche del sistema politico svizzero che a mio avviso sono molto importanti. Ecco, un po' lo schema di quello che andrò a dire è qui davanti sullo schermo, cioè dire cosa è, come funziona, che vantaggi produce sia sulla collettività sia sul sistema legislativo e poi aggiungerò qualche particolarità del sistema politico svizzero e poi aggiungerò anche dei link. Ma prima di tutto mi è sembrato opportuno aggiungere a questa presentazione alcune considerazioni generali, ecco, ed è questa pagina qua, e cioè la valutazione della democrazia diretta la si può fare da diversi punti di vista e molte persone giudicano la democrazia da diversi punti di vista etico, morale e anche un punto di vista, anche quello, la democrazia ha evidentemente anche un risvolto etico e morale, però in queste considerazioni che seguono ho preferito e io stesso preferisco giudicare la democrazia diretta o le altre forme di democrazia in virtù della loro utilità pratica, cioè la democrazia diretta serve a migliorare le leggi che si fanno? Questa è la domanda, cioè migliorare rispetto a che cosa? Ecco, il criterio che io seguo e raccomando anche di seguire, senza dimenticare gli aspetti etici, però di essere pratici, una decisione collettiva esige che si identifichi un massimo bene collettivo, cioè il modo di produrre il massimo di benessere al maggior numero di persone, il minimo di disagi o malessere al minimo di persone. Questa è una definizione che io trovo molto importante, che risale ad alcuni filosofi già di diverso tempo fa. Quindi la democrazia la valuterei e la valuterò nel seguito in base alla capacità di rispondere positivamente a questa richiesta. Inoltre è anche importante domandarsi in che cosa è. E qui ho trovato che la definizione che mi ha passato Andrea Sgroz, ex parlamentare svizzero, grande studioso di democrazia, democrazia diretta anima di un'associazione di cui faccio parte che è Atelier Pur la Democrazia Diretta, officina per la democrazia o laboratorio per la democrazia diretta. La definizione che mi ha passato Andrea Sgroz è la democrazia è coinvolgere nella decisione chi è coinvolto dalle conseguenze della decisione. Ecco, quindi come vedremo in seguito la democrazia, soprattutto diretta, aiuta a trovare il massimo bene collettivo coinvolgendo le persone che sono coinvolte dalle conseguenze delle decisioni. Altro passo, perché la democrazia solo rappresentativa è insufficiente. Qui bisogna un po' leggere. In ordine cronologico, a me pare che il primo che ha dato una definizione molto precisa in un librone molto impegnativo, il libro di Ostrogorsky, che è citato qui sopra, peraltro, Ostrogorsky spiega che i partiti politici pur se creati per nobili scopi tendono alla degenerazione oligarchica, cioè tendono a strutturarsi in organizzazioni non più democratiche o a limitare quantomeno la democrazia al loro interno. E spiega Ostrogorsky, per necessità lo fanno, non per cattiveria, proprio per la necessità di avere alleate le associazioni, i gruppi, le lobby, diciamo così, che gli consentono e gli favoriscano le vittorie alle elezioni. Il potere è messo a servizio di interessi particolari, quelli necessari al partito e alle lobby che lo aiutano a vincere le elezioni. Questo è un meccanismo che nel suo libretto di 750 pagine, Ostrogorsky spiega con una quantità notevolissima di esempi da lui raccolti durante il 1800, soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America. Tenete presente un aneddito che a me capita di citare brani di Ostrogorsky, nessuno crede che non sto parlando dell'Italia di oggi, perché è assolutamente calzante. Del resto, in Italia abbiamo una persona che non so se avesse studiato Ostrogorsky, forse no, perché purtroppo Ostrogorsky è poco conosciuto e il suo libro è praticamente introvabile, e che è Berlinguer, che scrive quello che sembra un brano di Ostrogorsky. I partiti sono macchine di potere, hanno occupato lo Stato e tutte le istituzioni a partire dal governo, hanno occupato gli enti locali, gli enti di previdenza, le banche, le aziende pubbliche, gli istituti culturali, gli ospedali, le università, la RAI, la TV, alcuni grandi giornali, tutto è lottizzato e spartito. Questo lo scrive Berlinguer, 80 anni dopo che praticamente Ostrogorsky dava la dimostrazione del perché questo succede. Andiamo avanti cronologicamente. Max Weber, a me, devo dire, è servito tantissimo a leggere il suo libretto Politica, Alsberuf, tradotto in italiano Politica come professione, che non era un libro, era una conferenza che lui ha tenuto nel 1919 dove spiega che si può vivere per la politica, cioè consacrarsi alla politica, oppure vivere di politica. E allora si ha Politici di professione ed è il titolo della sua conferenza. Questo, diciamo, deve farci riflettere perché se si vive di politica, cioè se è una professione, evidentemente allora i politici di professione sono tutti onesti o impiegati statali, hanno onestamente i loro interessi di categoria. E infatti, purtroppo, la storia, Ostrogorsky e altri studiosi hanno messo in evidenza il fatto che, purtroppo, i partiti politici si trovano come indotti a degenerare per usare il termine usato da Ostrogorsky in qualcosa di simile ai sindacati dei politici di professione. E quindi questo è un problema che è alla base di questa, diciamo, limitazione che hanno, che ha il sistema politico solo rappresentativo. ma più di recente una persona che conosco benissimo perché ci siamo trovati in diverse occasioni anche per propagandare assieme la democrazia diretta, c'è stato un politico, diciamo, di professione italiano che ha fatto recentemente, sto andando in ordine cronologico, una spiegazione che a me è piaciuta tantissimo di come mai il sistema solo rappresentativo non basta. Sto parlando di Riccardo Fraccaro che vedete qui a sinistra nella fotografia e questo è al convegno Global Forum on Modern Direct Democracy, convegno che si tiene tutti gli anni, l'anno scorso purtroppo è saltato in qualche parte del mondo, nell'incontro ultimo che si è fatto a Roma, il penultimo perché quello dell'anno successivo era a Taiwan, nel penultimo al 2018, Fraccaro ha fatto un intervento che qui ho citato in modo abbastanza esaustivo perché secondo me è molto chiaro e oltretutto viene dalla sua esperienza di vita personale. Tenete presente che Riccardo è un diciamo cultore della democrazia diretta tanto è vero che è stato ministro della democrazia diretta per alcuni mesi. Si tratta di un meccanismo dice Riccardo che non funziona più perché in realtà nel lungo periodo gli interessi dei cittadini confliggono con quelli del governante e questo succede perché l'interesse del cittadino è quello ogni volta di poter eleggere ed essere rappresentato da persona migliore, la più qualificata, mentre l'interesse del governante è quello di mantenere la poltrona, conservare il potere. L'interesse del governante è quello di farsi rieleggere e come garantirsi la rielezione? Sappiamo che la competizione rischiosa, il merito rischioso per questo motivo nascono meccanismi che possono essere legali o anche illegali per cui chi vuole farsi rieleggere si garantisce pacchetti di voti facendo gli interessi delle corporazioni o di quella lobby che porta in dote i voti. Questo meccanismo è indipendente dalla volontà delle persone perché è istintivo. Ecco, praticamente Riccardo Fraccaro in questo lungo commento che ho citato il commento è lungo ma è più breve di queste 750 pagine del libro di Ostrogorsky che descrive benissimo con molti dettagli con aneddoti eccetera questo fenomeno che Ostrogorsky menziona come la degenerazione oligarchica dei partiti. Ora da questo punto di vista vediamo che rimedi si possono affrontare che si possono prendere il sistema politico svizzero non è la perfezione ma contiene alcuni rimedi importantissimi per diciamo affiancare al sistema rappresentativo i correttivi necessari per far sì che i rappresentanti restino rappresentanti dei cittadini e non degenerino in qualcosa di diverso che potrebbe essere quello del impiegato che difende i propri interessi oppure del funzionario del partito che diventa una specie di ente imprenditoriale anche perché per vincere elezioni ha bisogno di lobby. Ecco gli strumenti più importanti sono proprio la democrazia diretta moderna e spiegherò l'importanza del vocabolo moderna e poi i governi collegiali cioè il fatto che nell'esecutivo non ci sia un solo partito vincente o pochi partiti ma ci siano tutti o quasi tutti i partiti più importanti e questa è una caratteristica molto importante del sistema politico svizzero. Un altro aspetto molto importante e molto utile per contrastare la degenerazione oligarchica dei partiti è il federalismo perché il federalismo in realtà distribuisce il potere nei territori e quindi le lobby hanno più difficoltà e con loro i partiti hanno più difficoltà a ottenere il malloppo che vogliono ottenere perché praticamente il potere è distribuito la distribuzione del potere è uno strumento importantissimo per ovviare all'inconveniente dei limiti della democrazia solo rappresentativa. Ecco a questo punto vi presento un po' me stesso io mi sono trovato qua in Svizzera per diciamo attività di lavoro dovevo insegnare tecniche di fabbricazione macchine utensili in una piccola in una ecole d'ingegnere come fosse un piccolo politecnico vedete questo è un bel quadro che rappresenta la cittadina nella quale mi trovo mi sono trovato impegnato non vi sto a raccontare come mai mi sono impegnato in politica e mi hanno praticamente coinvolto pur essendo straniero nel consiglio comunale della cittadina ora questo mi è servito devo dire tantissimo perché prima di questo coinvolgimento mi domandavo a cosa servisse tutto questo raccogliere le firme tutto questo fatto che i cittadini anche noi stranieri per le votazioni cantonali e comunali dovevamo così spesso votare eccetera non lo capivo tanto bene e invece nel consiglio comunale della cittadina ho capito e la pagina successiva vi spiega ma prima di girare pagina voglio aggiungere un dettaglio qui ci sono le caratteristiche della Svizzera che non sto a leggere ma leggo solo l'ultima quando uno dice Svizzera spesso in Italia ti dicono a le banche certo in Svizzera ci sono le banche e potrei spiegare come mai ma la Svizzera è un paese industriale la cittadina dove mi trovo è il luogo dove 300 anni fa è nata l'industria orologiaia Svizzera grazie a uno che abitava proprio in canto qui e dove sono questa cittadina ha un carattere ha un carattere un po' simbolico e per quello che la scuola di ingegneri è anche piazzata qua ora oltre a fare orologi gli svizzeri fanno macchine utensili e per me era un onore insegnare le macchine utensili qui perché la Svizzera è il quinto esportatore mondiale di macchine utensili tenete presente che al sesto posto al settimo e all'ottavo ci sono in ordine la Cina la Corea e gli Stati Uniti d'America all'ottavo posto questo secondo i dati del UCIMU Unione Costruttori Macchine Utensili di alcuni anni fa però resta una caratteristica importante non conosco più i dati più recenti però la Svizzera dico questo per sottolineare che è un paese industriale come del resto si vede anche da questo bellissimo quadro che è molto realistico del posto dove mi trovo bene passiamo alla mia esperienza mi sono trovato nella sala del Consiglio Comunale come eletto come indipendente perché ho spiegato ai membri del partito che mi coinvolgevano che volevo restare indipendente poi in realtà sono tutti indipendenti su questo aggiungerò qualche parola il partito che mi aveva coinvolto si chiama partito operaio popolare estrema sinistra infatti come vedete siamo seduti a sinistra rispetto alla sala del governo che è là in fondo ora è stato lì che per la prima volta ma poi l'ho risentito tante altre volte un consigliere tra l'altro della destra quindi seduto a sinistra che diceva cari colleghi facciamo attenzione prendiamo a noi stasera la buona decisione altrimenti può capitare che i cittadini prendano loro l'iniziativa cioè praticamente i consiglieri e poi mi hanno spiegato Andreas Gross mi ha assicurato che anche nel Parlamento federale svizzero sanno di non avere il monopolio del potere legislativo e sanno di essere in concorrenza con i cittadini e quindi questo sapere del fatto di non avere il monopolio produce considerazioni di questo genere che mi hanno indotto a dire ah guarda allora la democrazia diretta fa fare più attenzione a chi prende le decisioni e questo è l'aspetto principale benefico della democrazia diretta la quale interviene lo spiegherò anche dopo interviene diciamo meno di una volta su dieci anzi interviene una volta su cento delle decisioni che vengono prese dal sistema rappresentativo però il sistema rappresentativo è completamente modificato da questo fatto di non avere il monopolio e di sapere di non avere il monopolio questo mi ha indotto a diciamo tante riflessioni e le diverse esperienze le ho raccolte in questo libretto che peraltro c'è la slide successiva che lo mette in evidenza cioè ho scritto questo libricino che non è un libricino di teoria come spiega anche la prefazione dell'amico Luigi Bobbio purtroppo morto qualche anno fa è un libro diciamo di aneddoti di vita vissuta che parlano peraltro di democrazia diretta e come viene applicata cioè come i cittadini stessi la vivono come i rappresentanti la vivono ecco il libretto è frutto di questa esperienza nel consiglio comunale della cittadina alla quale non sono più non mi sono più presentato alle elezioni perché per i miei problemi di udito però ci sono stato circa più di dieci anni ecco brevemente in cosa cosa significa questa democrazia diretta cioè in realtà è un termine generico per dire degli strumenti specifici che voglio elencare al più basso livello c'è la petizione tutti la conosciamo obbliga l'organo interessato a rispondere va bene c'è anche questo diciamo è il livello inferiore poi però c'è già un passetto più avanti l'iniziativa popolare a voto parlamentare o consigliare esiste anche in Italia purtroppo in Italia non è rispettata cioè il Parlamento anche dopo aver raccolto le firme nel modo diabolico che si usa in Italia ne parlerò dopo spesso il Parlamento nemmeno 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 reagisce questo è gravissimo invece dovrebbe reagire è già uno strumento di democrazia diretta oltre a questo strumento in ordine di impatto direi c'è l'iniziativa popolare a voto popolare cioè la legge i cittadini si inventano una legge raccolgono le firme e chiamano altri cittadini a votarla cioè legge di iniziativa popolare a voto popolare e questo l'aveva proposto una modifica della nostra Costituzione Riccardo Fraccaro e lo si chiamava referendum propositivo probabilmente vi ricorderete è stato anche approvato alla Camera nel febbraio del 2019 purtroppo l'iter di questo strumento potentissimo di democrazia diretta si è arrestato e dovrebbe essere nostro compito ne parlerò poi proporre di proseguire su questa strada della sua approvazione visto anche che ha fatto 25% del percorso legislativo altrimenti altri strumenti di democrazia diretta sono il referendum facoltativo come è chiamato in Svizzera il referendum abrogativo come lo chiamiamo in Italia abroga una delibera una legge eccetera eccetera lo si conosce anche in Italia perché in Italia esistono degli strumenti di democrazia diretta anche se come farò vedere dopo hanno dei diciamo vincoli un po' restrittivi uno strumento importantissimo è il referendum obbligatorio purtroppo in Italia non c'è e meriterebbe che ci fosse cioè nel nostro consiglio comunale o in Svizzera chi è stato eletto non può fare leggi elettorali senza la ratifica dei cittadini obbligatoria senza dover raccogliere firme è il contenuto stesso della decisione che siccome è palesemente autoreferenziale impone il referendum di ratifica dei cittadini secondo me è lo strumento importantissimo e dalla mia esperienza di parlare di democrazia diretta in Italia diciamo noto che è molto condiviso cioè la democrazia diretta spesso molti anche democratici propone anche dei dubbi delle remore ma sul referendum obbligatorio c'è un larghissimo consenso ecco questo è un piccolo panorama ma c'è un punto molto molto importante ancora che è il plebiscito ora il plebiscito come vedete tutti i punti che abbiamo visto prima l'iniziativa parte dai cittadini i cittadini votano nel caso che si debba votare eccetera ma sono loro che decidono su cosa eccetera il plebiscito invece è quando è il governante che decide voi cittadini votate su questo il plebiscito è stato inventato da Napoleone è stato usato anche da vari dittatori ed è indubbio che sia uno strumento di democrazia diretta proprio perché non è diretto dalla volontà dei cittadini su questo ho messo qui una lunga citazione di Andreas Auer professore di diritto costituzionale dell'università di Zurigo purtroppo morto pochissimi anni fa e direttore del centro di studi di documentazione sulla democrazia diretta leggo solo la frase fondamentale la democrazia diretta è indipendente o propria quando il momento il tema sul quale il popolo interviene non dipende che dalla volontà del popolo stesso di quest'ultimo o da un criterio oggettivo come il caso del referendum obbligatorio su quale altri organi dello Stato non hanno influenza cioè non possono dire sì o no cioè è una decisione la democrazia diretta è propriamente democrazia diretta soltanto se sono i cittadini che prendono l'iniziativa ecco questo in grande sintesi la democrazia diretta produce questi effetti elimina il monopolio del potere legislativo quindi questo induce i rappresentanti a fare attenzione e fanno attenzione anche tra di loro cioè ascoltano la minoranza in Parlamento l'ho visto nel mio consiglietto comunale ma Andrea Sgross e altri parlamentari svizzeri che conosco mi assicurano che è lo stesso anche nel Parlamento svizzero cioè non puoi trascurare quello che dice la minoranza cioè il meccanismo opposizione maggioranza opposizione dove la maggioranza decide senza ascoltare l'opposizione blatteralmente in Svizzera la democrazia diretta elimina questa cosa qua la democrazia diretta e anche i governi collegiali ne parlerò brevemente dopo ed è una delle ricadute più importanti perché la democrazia diretta aumenta il dialogo nei consigli comunali in Parlamento eccetera e questo migliora il tipo di decisioni e poi rende più difficile il lavoro delle lobby cosa ti compri il partito se poi tanto i cittadini possono prendere l'iniziativa poi cercano anche di influenzare i cittadini ma è più difficile per loro convincere milioni di cittadini piuttosto che qualche centinaio di parlamentari eccetera questi elementi sono tali per cui la democrazia diretta affianca e risana la democrazia rappresentativa ma andiamo avanti la democrazia diretta questi strumenti devono essere accompagnati da altri strumenti importantissimi che ne possono anche ridurre in modo importante l'efficacia come purtroppo succede in Italia dove la democrazia diretta c'è anche però cosa succede succedere che raccogliere le firme è complicatissimo devi trascinare in piazza il notaio o un certificatore mentre invece per leci europea la legge di iniziativa popolare a voto consigliare europea puoi persino raccogliere le firme via rete in Svizzera non si può raccogliere le firme via rete ma le firme anche se magari ti trovi in un ambiente climaticamente poco favorevole alla raccolta delle firme come presento in questa fotografia che è reale eravamo lì a raccogliere le firme la raccolta delle firme è semplificatissima il modulo è qui sulla sinistra in lingua francese perché qui dove sono si parla il francese devi praticamente non hai bisogno di nessun certificatore perché la certificazione la fa il consiglio comunale stesso che verifica che la firma del firmatario oltre ai dati tutti corretti anche la firma sia uguale a quella depositata in comune al momento di chiedere la residenza il domicilio e quindi delle volte davanti al banchetto lì ti passa qualcuno e mi dice interessante dammi 4-5 fogli che stasera ho la festa degli amici ho la cena dell'associazione saranno in tanti che hanno piacere di firmare e quelli gli dai dei fogli come quello che è qui raffrigurato e ti raccoglie le firme cioè è un elemento fondamentale quella della raccolta della semplificazione della raccolta delle firme da notare che l'Italia è stata condannata dall'ONU l'anno scorso per la complessità della raccolta delle firme in Italia e questo l'ONU ha chiesto al governo italiano di prendere provvedimenti per semplificare la raccolta di firme questo è un tema sul quale c'è molto da fare altra cosa importantissima che manca purtroppo in Italia molti fanno l'obiezione ma i cittadini come fanno a farsi le idee ecco i cittadini non è che per decidere come votare stanno a guardare la televisione o comprono il giornale della Fiat o di Berlusconi ai cittadini gli viene mandato a casa il libretto delle votazioni ogni tema referendario qui sono le votazioni ho preso il libretto del canton Ticino l'ho scaricato sono le votazioni che scadevano domenica scorsa e quindi avevamo da votare su cinque temi diversi ogni tema è trattato in tre capitoli tre capitoletti brevi ma soddisfacenti cioè ti dicono il tema in generale in cosa consiste poi c'è il capitolo degli argomenti a favore il capitolo degli argomenti contro è veramente uno strumento fondamentale come associazione più democrazia Italia in occasione dell'ultimo referendum sulla riduzione dei parlamentari abbiamo preso contatto con persone e con associazioni sia favorevoli che contrarie e abbiamo assieme redatto un libretto come questo e è stato anche discusso in Parlamento e il governo si è impegnato a farlo esistere ma purtroppo non ha purtroppo non ha non ha soddisfatto questa promessa speriamo che facendoci sentire la prossima volta si si provveda cioè i cittadini svizzeri le idee se le fanno usando il libretto non conosco nessuno che non si studi il libretto e se uno non si studia il libretto tipicamente non va a votare anche perché questo è anche importantissimo non c'è quorum per cui ti puoi astenere dal voto senza che l'astensione sia il voto stesso e questo è un altro aspetto di grande grande importanza ora altro aspetto importante qui c'è una mia amica nella sua cucina che si sta studiando un libretto di tipo cantonale come era qua questo è il materiale di voto che ti arriva a casa circa un mese prima in modo che hai la possibilità di riflettere su che cosa votare sia perché c'è il libretto sia perché puoi votare senza andare a fare la ressa diciamo ai seggi sì l'ultimo giorno la domenica la domenica mattina puoi andare anche a votare al seggio però non lo fa praticamente nessuno sono solo gli ultra ritardatari altrimenti metti il tuo voto nella busta envelope de vote che vuol dire busta di voto e la porti il consiglio comunale nella buca delle lettere la puoi anche spedire per posta e questo semplifica molto le procedure di voto ecco questi aspetti diciamo tecnici minimi se volete sono anche molto molto importanti vado avanti perché non vorrei prendere troppo tempo e invece ho ancora diverse parti allora vediamo gli effetti sui cittadini i cittadini con la democrazia diretta sono attivi politicamente in modo continuo cioè praticamente noi abbiamo qui in Svizzera si è votato le settimane scorsa ma la votazione precedente era nel mese di marzo per cui è un impegno continuo riduce la faziosità e la genericità della protesta cioè tu hai un compito politico da svolgere non non devi protestare cioè basta che ti esprimi aumenta la coesione sociale e la vita associativa cioè è uno stimolo al dialogo e migliora la fiducia nei governanti perché hanno la sensazione che i governanti pur poi essendo criticati anche loro però i governanti stanno a sentire il popolo e questo è importantissimo l'ultimo punto riduce quello che in Svizzera si chiama voto gregario cioè il voto non sui contenuti ma per simpatia antipatia cioè voto come il partito no è considerato incivile uno che votasse così questa è una forma di educazione che ho notato è piuttosto radicata tra i cittadini e perché è radicata probabilmente secondo quello che capisco delle dinamiche della democrazia è che praticamente se sbagli a votare sei tu cittadino che paghi le conseguenze dell'errore per cui la democrazia e anche la democrazia diretta è un processo evolutivo cioè migliora con l'uso alla differenza di altri strumenti dove diciamo chi paga le conseguenze degli errori non è chi li fa e quindi quello non non gli insegna niente invece gli svizzeri hanno imparato nell'uso della democrazia a usarla vediamo altri punti perché io come rappresentante che ero stato eletto in un consiglio comunale apprezzavo la democrazia diretta che vantaggi ce ne avevo avevo dei vantaggi io nel senso che c'è maggiore serietà nel lavoro c'è un clima tra i consiglieri di maggior dialogo perché non esiste la maggioranza contro l'opposizione l'opposizione contro la maggioranza non esiste nemmeno il vincolo di mandato partitico di questo avrei dei bei racconti da fare ma voglio arrivare un po' verso la fine e quindi cioè proprio il vincolo ognuno pensa con la sua testa e questo aumenta l'intelligenza collettiva ed è anche il lavoro più bello che non votare come il partito comanda è assurdo anzi chi lo fa nel consiglietto comunale ma mi dicono anche nel Parlamento chi vota sempre come nel Parlamento federale e anche cantonale chi vota sempre come il suo partito la maggioranza del suo partito dopo un po' viene guardato male dice ma quello lì non ha mai idee sue ma legge le delibere legge le leggi prima di votarle perché votare come il partito vuole è comodissimo non leggi niente ti arriva un pacco di carta così non la guardi neanche e voti come il partito comanda intelligenza zero e fa il tuo mestiere purtroppo è quello che mi dicono perché ho chiesto a parlamentari italiani succede spesso in Italia allora altre ricadute sul sistema rappresentativo maggiore responsabilità individuale dei rappresentanti cosa voti come il partito vuole se poi tanto i cittadini possono prendere l'iniziativa questo me lo sono sentito dire diverse volte aumenta l'intelligenza contattiva su questo ne ho già parlato ecco arriviamo alle obiezioni ricorrenti alla democrazia diretta e qui ci si orienta un po' verso la fine spesso ti dicono funziona solo in piccoli paesi è falso l'unico che serve quando il paese è grande è contare più schede elettorali e del resto la democrazia diretta esiste dal 1911 anche in california 40 milioni di abitanti cioè praticamente uno stato europeo esiste poi anche pur in una forma molto attenuata in europa stessa con le ecci anche se non con voto popolare altra obiezione consente solo un sì e un no è vero al momento della votazione c'è il sì o il no peraltro hai anche sì o no alla proposta alla controproposta oppure a tutte e due quindi diciamo è già articolato ma soprattutto quello che è la forza della democrazia diretta è che migliora il dialogo a livello dei parlamentari a livello del consiglio e quindi stimola la mediazione negli organi legislativi nel nostro consiglio non succedeva ma mi hanno assicurato che nel Parlamento federale svizzero prima di fare una legge interpellano tutte le associazioni i sindacati gli organi di categoria le associazioni di categoria che potrebbero lanciare un referendum abrogativo o prendere l'iniziativa e quindi aumenta il dialogo altra obiezione i cittadini non possono essere preparati si farebbero pilotare dai media non è vero perché esiste il libretto delle votazioni ed è lo strumento fondamentale per informarsi altra precisazione la democrazia non è i cittadini devono votare sempre su tutto praticamente i cittadini votano una sparuta minoranza delle decisioni delle decisioni prese dal consiglio comunale l'esempio forse più clamoroso è proprio quello del mio consiglio comunale in dieci anni ogni anno prendono circa 60 delibere e praticamente negli ultimi dieci anni sono state lanciate una decina di iniziative popolari per cui è un è un è un su 610 per cui praticamente però tutte le 600 decisioni del consiglio comunale i consiglieri dicono attenzione i cittadini possono prendere l'iniziativa per cui migliora il processo decisionale la democrazia diretta non è un sistema decisionale all'interno di un partito per cui purtroppo qui il Movimento 5 Stelle ha creato un po' di confusione su questa cosa qua la democrazia va bene si somiglia alla democrazia diretta però la democrazia diretta è un sistema legislativo non un sistema democratico all'interno di un'associazione all'interno di un partito quello si può somigliare alla democrazia diretta ma la democrazia diretta che io penso occorre rivendicare in Italia e anche in Europa è un strumento un potere legislativo in mano ai cittadini e poi non è una qualsiasi forma di partecipazione la democrazia diretta non è la democrazia partecipativa ecco su questo la democrazia partecipativa è anche fatta di strumenti importanti assemblee cittadine bilancio partecipativo sono strumenti di consulenza di scambio di informazioni importantissime anche quelle tanto importanti che qui in Svizzera non ci sono molto e io stesso in consiglio comunale ho lanciato una mozione che è stata approvata per introdurre strumenti diciamo assemblee cittadine per discutere con i cittadini anche se poi dopo la discussione non si decide niente ma si arricchisce l'informazione ed è importante anche quella ma non è democrazia diretta è democrazia partecipativa è importante la distinzione anche questa distinzione è importante moltissimi purtroppo fanno l'obiezione confondendo la democrazia diretta moderna con quella medievale allora bisogna spiegarlo la democrazia diretta moderna che è stata introdotta in Svizzera per prima nel 1848 non elimina la democrazia rappresentativa mentre invece la democrazia diretta medievale che esiste ancora anche in qualche cantone svizzero le assemblee dei cittadini erano assemblee legislative e non c'era più il Parlamento non c'era più quello che è l'organo di democrazia rappresentativa arriviamo verso la fine e facciamo un po' di storia allora nella antica Grecia c'era l'assemblea legislativa durante poco più di cento anni tra l'altro per cui è durata poco che si chiamava Ecclesia nei comuni medioevali nei comuni soprattutto dell'Italia del nord da Venezia fino a Milano e anche in Toscana c'erano i larengo il parlamento il concio che erano assemblee legislative non c'era il Parlamento per cui la democrazia medioevale era un po' come nell'antica Grecia l'assemblea dei cittadini aveva carattere legislativo in Svizzera è esistita questa forma di democrazia medioevale ed esiste ancora in due cantoni ecco qui la fotografia dell'assemblea cittadina però questa forma di democrazia ha moltissimi difetti perché i cittadini chiaramente hanno difficoltà a decidere tutte le decisioni che sono necessarie per cui di quello che succede mancando l'organo legislativo il Parlamento o il Consiglio Comunale si rafforza l'esecutivo tanto che in Italia si è passati dai comuni medievali alle signorie come ben sapete un caso molto interessante è quello dell'antica Roma repubblicana dove senatus populusque romanus come ben sapete significa che il senato è il popolo romano quindi il senato legiferava e i cittadini ratificavano ogni decisione quindi la legge praticamente con un meccanismo molto interessante che però non posso spiegare nel dettaglio i cittadini nelle assemblee ratificavano le decisioni del senato e le assemblee si chiamavano comizi e questi comizi sono rimasti praticamente in funzione anche durante una parte dell'impero e comunque la tradizione dei comizi come dei consoli si è trasferita anche ai comuni medievali ed è arrivata poi ad alimentare la democrazia diretta moderna arriviamo verso la fine come introdurre la democrazia diretta praticamente quello che è successo nella storia è che in Svizzera un movimento democratico non un partito un movimento democratico ha fatto pressione sui partiti dell'epoca tra il 1830 il primo successo è avvenuto nel 48 e il 1891 poi ci sono anche evoluzioni successive ma i passi fondamentali sono stati quelli anche negli Stati Uniti d'America ci sono molti stati con la democrazia diretta solo a livello di Stato e non a livello federale come anche oggi in Germania e lì anche lì non c'è stato il partito della democrazia diretta ma erano associazioni di cittadini in Italia dobbiamo in qualche modo lavorare in questa direzione qua finisco con il caso della Svizzera ripeto che la Svizzera ha alcuni strumenti importanti per contrastare la degenerazione del sistema solo rappresentativo e sono il federalismo l'ho citato prima i governi collegiali cioè praticamente tutti i partiti o quasi tutti i partiti secondo i sistemi elettorali sono presenti con un sistema collegiale per cui anche i consiglieri anche noi consiglieri non potevamo sapere la proposta dell'esecutivo da quale partito proveniva perché i consiglieri dell'esecutivo devono conservare la collegialità che vuol dire che praticamente è un organo collegiale che le cui dissensi all'interno non sono resi pubblici questo limita se vogliamo la libertà di quei consiglieri lì però ha un effetto assolutamente benefico perché non c'è più maggioranza contro opposizione sia grazie alla democrazia diretta sia grazie ai governi collegiali e si vota sui contenuti sia in consiglio che i cittadini il sistema elettorale anche sono diversi secondo i cantoni eccetera ma anche a livello federale si hanno le preferenze anche disgiunte cioè puoi votare per candidati di partiti diversi cosa che tantissimi fanno ho avuto l'occasione di fare lo scrutatore ho notato che tantissimi votano con le preferenze disgiunte ecco il senato ha anche la possibilità di eleggere normali cittadini non presenti nelle liste di partito questa è anche una particolarità del sistema elettorale molto molto interessante per concludere da ogni paese possiamo trarre delle indicazioni dalla Svizzera io penso che le indicazioni più importanti che ci vengono sono la democrazia diretta il federalismo i governi collegiali e le leggi elettorali con preferenze anche disgiunte che sono estremamente più importanti ma e qui arrivo proprio alla fine la democrazia la società in generale è un sistema complesso per cui non c'è mai un solo strumento benefico e salvifico è sempre un insieme di strumenti che vanno messi in funzione come più democrazia Italia qui c'è il link in basso abbiamo raccolto da diversi gruppi e da diverse persone una lista di proposte di strumenti di democrazia per rafforzare la democrazia guardate la lista non ve la leggo tutta ma ve la presento ci sono strumenti di rafforzazione rappresentativa come le preferenze nella legge elettorale preferenze anche disgiunte strumenti di democrazia partecipativa cioè le assemblee dei cittadini e strumenti per farle funzionare strumenti di democrazia diretta moderna quella che affianca e risana la democrazia rappresentativa metodi diciamo per far funzionare la democrazia diretta moderna meglio come semplificazione della raccolta delle firme un quorum zero o limitato in modo che chi non va a votare non sia per quello lui che vota perché è quello che succede se c'è un quorum partecipativo almeno un quorum approvativo come aveva proposto Fraccaro strumenti di controllo una legge su conflitti di interesse norme in materia di trasparenza riforme dei metodi democratici come il federalismo come la sfiducia costruttiva cioè in Italia purtroppo succede che il governo per farsi approvare la legge che lui propone pone la fiducia cioè praticamente non votano più sul contenuto della legge ma diciamo è il trionfo assoluto del quello che in Svizzera considerano voto gregario cioè non votare sui contenuti arrivo alla fine testi e libri ci sono non li ho con me perché purtroppo sono nell'altro appartamento quello dove non posso parlare guida la democrazia diretta dell'istituto europeo per l'iniziativa e il forum è qui Paolo Michelotto democrazia dei cittadini Thomas Benedicter della democrazia diretta più potere i cittadini mi ci sono messo dentro anch'io con il mio libretto sulla democrazia diretta vista da vicino poi siti e link vi segnalo più democrazia Italia anche diciamo l'associazione di Bolzano e l'associazione per la democrazia diretta del Trentino attività che sono in corso più importanti che mi pare opportuno segnalare è il lavoro fatto per realizzare un nuovo statuto e un nuovo regolamento a Roma è molto molto interessante è una guida che dobbiamo fare conoscere nei diversi comuni italiani perché la democrazia diretta sia in Svizzera sia negli Stati Uniti d'America sia in Germania ovunque si diffonde in modo diciamo alternandosi passi avanti a livello locale passi avanti a livello nazionale e viceversa altri esempi sono in Europa Mer Democrazie Deutschland che hanno fatto un lavoro strepitoso a livello dei diverse regioni lander tedeschi c'è Democracy International e poi c'è l'Europa che usa lecce european iniziative grazie grazie per l'attenzione ho un po' splafonato rispetto al tempo previsto chiedo scusa e vi prego di fare delle domande mettendovi vicino al microfono il più che potete perché purtroppo ho detto qual è il mio handicap e volentieri aggiungerò delle spiegazioni aggiungo per i link e tutto quanto se volete trasformo questa presentazione in pdf così avete un testo e ve lo potete riguardare se avete anche delle domande che vi vengono da fare poi volentierissimo ci torno grazie per l'attenzione grazie grazie a te leonello bellissima presentazione volevo soltanto aggiungere che si sono collegati e sono con noi Angelo Sturni che diciamo è oramai nostro amico relatore del lavoro del lavoro su Roma e si sono collegati anche credo un paio di amici tuoi leonello perché c'erano sia quel signore di Firenze credo Luca Luca Raitieri e anche giustamente Erminio Resegotti se se questi ospiti vogliono dire due parole io lascerei un attimo parlare loro e poi e poi andiamo con le domande a leonello per ospitalità ma anche per raggiungere forse contenuti a questa nostra discussione di questa sera io però sento un rumore molto non so chi si c'è Angelo Angelo fa rumore si è vero ti confermo Angelo fa molto rumore stasera si vede che funziona male Erminio prego prego a lei prego volevo aggiungere qualcosa io volevo aggiungere all'introduzione del Leo alcune terminologie che mi stanno più a cuore e che vogliono dire voglio dire questo per me Leo dice istintivo io dico che è istintivo un certo comportamento e condivido perfettamente io chiamo un conflitto di interessi esistenzialmente iniminabile in ogni persona e quindi tutti si comportano nel bene e nel male non è che la propria interesse sia un'accezione negativa è positiva se votata al bene o comunque all'obiettivo che poi metteva anche nelle vari pensieri che diceva Leo e al male dipende se diventa un interesse personale poi passa attraverso cedere alle lobby cedere al potere gestire perpetuare la propria l'autostima tutta una serie di voci che richiedono io faccio un esempio io lo vedo questa esperienza dell'essere politico umano come l'esperienza di Ulisse quando passa attraverso le sirene che lo invitano a scendere e provare il piacere della corruzione chiamiamola così in quanti termini o della convenienza e allora Ulisse per poter transitare senza cadere si è fatto legare impedendo di scendere agli altri gli ha tappato le orecchie ma lui ha voluto sentire però si è messo una barriera di elementi che gli impediscono di degenerare e di correre dietro a questa chiama ecco in questo senso la democrazia diretta è quella che fa il lavoro di cinturare i comportamenti di interessi personali o con i referendum obbligatori come diceva Leo tipo ad esempio le retribuzioni e altre situazioni dove c'è un vantaggio proprio oltre che collettivo estrapolare queste opportunità e togliere della loro disponibilità gestionale con attenzione questo vuol dire obbligare loro a ragionare in termini diciamo diversi dove la convenienza perché secondo prima gli interessi l'obiettivo è far diventare diventare che sia interesse positivo ascoltare la gente se capisci che rende di più che andare da altre parti perché cinturati allora il politico capisce cioè il popolo capisce e lo cintura e lui è obbligato ad andare a sentire la gente come diceva il Leo come concetto poi conclusivo se uno è intelligente su questi aspetti questi qui sono un po' alcune aggiunte che possono far capire certi strumenti direi obbligatori di leggi di insepolare tutto quanto sono elementi che cinturano e bloccano le tentazioni che è l'interesse di anche noi e parlo anche per me anche per voi tutti noi abbiamo i nostri interessi sono quelli buoni sono quelli meno buoni e dobbiamo lasciare quelli buoni io credo a chi finisco poi io credo che i politici che dicono di credere alla patologia partecipazione della gente e non dovrebbero avere paura di avere questi strumenti che li controllano se escono da questo loro rapporto di cui dicono di credere quando accampano teorie strane complicate per accantonare la democrazia diretta di partecipativa del popolo nascondono un background mentale molto molto presente dal loro punto di interesse non è regato a servire il popolo seguire la volontà ascoltarla servire non in termini marxista ma se ha un discorso più io sono più democristiano che marxista ovviamente come mia esperienza come servire per me è un termine positivo e quindi questo dovremmo smascherare chi ostacola questo ma se tu fai tutto bene come dissi di fare che problemi hai a mettere questi strumenti che controllerebbero quello tui vai fuori strada non dovresti averne motivi prendili tutti se tu a me non fanno male De Gasperi le avrei messo anche per De Gasperi questo tipo di cintura non ne avrebbe fatto un problema a dire lo rispetto perché a me non fa problema perché ci credo o apre in quella direzione molti altri invece dicono di essere chissà cosa ma poi in realtà sono benati questo così grazie grazie dell'intervento molto significativo grazie si sono prenotati Mario Laura e Federico ma io farei parlare un attimo prima Angelo che ci dà magari qualche altra chic e poi interveniamo noi e adesso forse mi sentite meglio no adesso perfettamente caro Angelo perfettamente scusate prima il telefono allora vabbè prima di tutto grazie un'altra volta e ringrazio anche Leonelo perché quando ci siamo conosciuti devo dire è stata sempre una fonte preziosa di informazioni e dal mio punto di vista anche una sorta di memoria storica che che viene un po' a mancare dal punto di vista politico è secondo me anche civico perché in ogni caso gli strumenti di democrazia diretta e partecipativa anche elettronici anche digitali sono e costituiscono insomma un patrimonio che non è come è stato anche da lui raccontato necessariamente appartenente ad una forza politica piuttosto che ad un'altra ma costituiscono un presupposto indefettibile di tutti i di ogni ordinamento e se la Svizzera che di fatto costituisce insomma un modello per un po' per tutti noi è riuscita nel corso appunto di oltre un secolo a rendere una prassi l'esercizio dei diritti di partecipazione io credo che l'Italia dovrebbe in un certo senso a partire dalle città perché sono i contesti dove più facilmente questo possa avvenire io credo che sia necessario una un'azione forte di riforme ma purtroppo al momento la la partecipazione è intesa soltanto come partecipazione su Facebook o comunque sui social network e secondo me questo fa perdere molto quello che dovrebbe essere la vera e il vero concetto insomma di democrazia diretta o anche di semplice democrazia che è un processo che arriva al voto e non è solo un voto su Roma ne avevamo già parlato l'altra volta ma ribadendo c'è stata una riforma nel 2018 che è durata due anni poi nel bene o nel male questa riforma è riuscita ad avere un suo non solo insomma un nuovo statuto di Roma Capitale e ci ho lavorato parecchio tempo ma anche tutte le delibere attuative nonostante nel 2018 sia stata presentata ecco una una proposta scusate spengo la pasta una 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 proposta ecco di revisione dello statuto che sia stata approvata e poi un atto di indirizzo per impegnare la giunta capitolina ad adottare tutti diciamo delle modifiche regolamentarie per rendere attuative purtroppo e io insomma sono una persona abbastanza dritta e dice le cose come stanno purtroppo questa la deliberazione di giunta che doveva attuare il come dire lo statuto il nuovo statuto Roma capitale per modificare il regolamento degli istituti di partecipazione che il regolamento attuativo nel 1994 non è mai arrivato nonostante avessi fatto una mozione di quasi 12 pagine diciamo che di fatto era quasi il nuovo regolamento quindi non potendo e non ritenendo diciamo giusto che una riforma così importante non avesse un regolamento attuativo e nonostante sapessi insomma che la giunta aveva comunque lavorato su una bozza che però poi non so insomma poi andrebbe chiesto a loro scelto di non portarla avanti io stesso ho ripreso punto per punto e riscritto ogni singola parte del regolamento del 1994 dell'istituto di partecipazione per poterla rendere concretamente attuabile quindi oggi abbiamo le petizioni popolari che sono nello statuto ma adesso sono anche diventate elettroniche c'è il regolamento del 94 che è stato aggiornato e oggi consente di presentare le petizioni oltre che quelle cartacee anche elettroniche sul portale Roma Capitale le proposte libri iniziativa popolari che oltre a cartacee sono anche diventate digitali e tra qualche settimana proprio qualche settimana fa abbiamo fatto una commissione con gli uffici dopo insomma la modifica regolamentale sono messi a lavorare adesso ci saranno le proposte libri iniziativa popolare digitali per cui i cittadini dopo aver presentato via cartacea quella loro proposta poi potranno chiedere il supporto online sul portale istituzionale Roma Capitale per accogliere 5.000 firme e poi presentarle alla pari di un singolo consigliere i referendum che prima erano consultivi e abrogativi adesso sono consultivi abrogativi e propositivi prima c'era un quorum del 51% adesso c'è il quorum zero su tutti e tre le tipologie di referendum questo perché anche abbiamo modificato il regolamento nel 1994 e inserito diciamo queste cose addirittura lasciando aperta la possibilità della raccolta firme digitali per il referendum e la raccolta firme e addirittura il voto l'ipotesi del voto elettronico io non mi sono fermato e nello statuto del 2018 abbiamo inserito il bilancio partecipativo anche qui inerzia cose alla fine mi sono messo seduto ho chiamato alcuni ragazzi anche che sono venuti in commissione per darci un po' d'esperienza che erano quelli che avevano fatto avevano fatto il bilancio partecipativo a Milano con Sala e ci portarono un po' d'esperienza io poi ho preso e mi sono messo a scrivere il regolamento del bilancio partecipativo bilancio partecipativo regolamento approvato nel 2019 è stato fatto e è andato insomma avanti tutto questo per dirvi che io dopo aver fatto tutta questa roba tra l'altro a Roma vengo pure qualificato come un ribelle e probabilmente manco candiderò alle prossime amministrative del 2021 però questo è per farvi capire come effettivamente la situazione va avanti quindi io credo che o si vuole portare avanti questi strumenti di partecipazione e poi decidere anche di utilizzarli anche come semplici cittadini perché altrimenti questa roba non passerà mai cioè quando noi finiamo la nostra consigliatura da semplici consiglieri poi bisogna avere scusate la brutalità e poi chiudo anche i coglioni di poter andare sul territorio e dire esiste il referendum propositivo esiste il referendum consultivo esiste il referendum abrogativo e non bisogna avere paura addirittura di farselo fare contro a me questa consigliatura i radicali hanno fatto loro il referendum contro di noi diciamo mettiamola così contro una posizione politica nostra e va bene non bisogna avere paura perché se poi è la cittadinanza che si esprime tu lì devi giocartela attraverso l'attività di informazione devi prendere posizione e soprattutto è stato interessante perché c'è stata una serie di contenziosi che poi hanno portato il TAR del Lazio a dire che Roma aveva approvato il referendum consultivo zero quorum riconoscendo dal mio punto di vista per com'era quella sentenza anche la validità del referendum zero quorum anche perché io nello statuto proprio per problemi da un punto di vista normativo che lo zero quorum qualcuno dice che non è previsto eccetera avevo richiamata la carta diciamo alla la carta che è stata adottata dalla commissione per il referendum che è diciamo della commissione di Venezia che ha fatto diciamo un documento importante che di soft law che comunque dava un orientamento da un punto di vista internazionale su quelli che erano i principi generali degli strumenti referendari raccomandando a tutti dicendo guardate il quorum ma ce l'avete solo voi toglietelo a tutti poi alcuni l'hanno adottato altri no noi l'abbiamo preso inserito all'interno dello statuto purtroppo diciamo che ripeto ci sono secondo me dei politici che hanno paura della partecipazione dei cittadini facebook non è la partecipazione dei cittadini ve lo dico proprio non per come ma non perché abbia qualcosa contro i social network perché un conto è la democrazia diretta un conto è la partecipazione digitale la democrazia diretta ci sono delle regole quelle che va spiegato leonello che sono all'interno degli statuti che sono una prassi che sono esercitate con delle regole chiare che sono all'interno delle leggi quella è la democrazia la partecipazione digitale è un like non è la democrazia sono due cose assolutamente differenti io vi lascio diciamo con questo e vado a scolare la pasta ma vi ascolto molto volentieri grazie angelo io penso che tu non sei un ribelle sei un tignoso perché hai fatto un lavoro spettacolare con la tua caparbietà e quindi non ti considero assolutamente un ribelle però dobbiamo lavorare un po' insieme su questa cosa che dici perché effettivamente hanno messo la sordina a tutte queste due meravigliose iniziative e noi invece secondo me le dobbiamo andare un po' a rispolverare dobbiamo fare dei post dobbiamo far capire che questi strumenti cittadini ci sono non sono conosciuti e invece debbono essere conosciuti a Roma che esiste tutta questa cosa qui Massimo il problema scusa che ti interrompo il problema vero è che in realtà lo stanno bene io sono contento gli altri partiti perché vedo i radicali che presentano il programma con cui ho buon rapporto perché io parlo senza problemi perché sono felice diciamo delle mie idee del programma che ho portato avanti e quindi mi metto seduto a parlare pure col diavolo tanto poi provo a convincerlo allora la questione io vedo il programma dei radicali e dentro c'è un pezzo del lavoro che abbiamo fatto allora io dico oppure parli col Partito Democratico e giustamente loro il bilancio partecipativo lo fanno da vent'anni nelle città però a Roma non l'avevano fatto e quindi digitale l'abbiamo fatto noi poi ovviamente per me c'estanno degli errori e loro mi hanno fatto pure notare guarda che qui secondo me questa cosa è da cambiare da migliorare in effetti secondo me ci hanno anche ragione quindi si potrebbe fare un passo in avanti anche su quello però poi vedo che gli altri ne parlano e noi o almeno chi ci ha lavorato per cinque anni tutti i giorni insomma poi alla fine viene messo un po' da parte però purtroppo questo è anche questo un po' la politica che vi devo dire io ti dico buon appetito per il momento Luca Rattieri se vuole inserirsi nel discorso poi diamo la parola alle tante domande che ci sono buonasera a tutti grazie la bellissima serata è sempre un piacere di ascoltare Leonello anche se lo conosco da tanti anni perché facciamo parte appunto di più democrazia Italia ormai da diversi anni ma io non mi stanco mai di ascoltarlo perché è molto chiaro molto chiaro molto molta passione e Angelo Studi è eccezionale perché è uno che ha mantenuto quello che veramente quello che era nel programma sulla democrazia diretta è andato avanti senza farsi coinvolgere da nessuna logica di partito neanche del suo insomma per dire addirittura quindi ha portato avanti in maniera eccezionale e come ha detto avete detto adesso è importantissimo far conoscere queste cose e ci sono questi strumenti che ci sono è fondamentale perché poi come diceva anche Leo la democrazia è un po' come andare in bicicletta si impara facendolo si sviluppa in Svizzera come hanno fatto hanno cominciato e poi hanno capito che in bicicletta si va meglio che a piedi che la democrazia diretta aiuta aiuta anche a tutto migliora anche l'economia migliora tutto migliora tutta la società è un vantaggio per tutti e quindi si tratta di far conoscere questi esempi positivi in primis questo di Roma chiaramente Roma poi è voglio dire la capitale quindi far conoscere che a Roma ci sono questi strumenti è un esempio per tutta l'Italia farla conoscere in primis a Roma e farla applicare bellissimo poi anche che Angelo Sturni dica non mi è importato non mi è importato che anche gli altri partiti radicali utilizzassero questi strumenti l'importante è che li utilizzino l'importante non bisogna avere paura dei cittadini perché poi sono loro alla fine a decidere questo è splendido proprio nello spirito democratico che dovrebbero avere tutti i consiglieri comunali come e che hanno purtroppo non tutti lo hanno anzi insomma direi che non sono la maggioranza e quindi grazie di questa serata e niente ecco andiamo avanti così e grazie per questa per questo bella bella invito grazie 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 a lei ne faremo delle altre ne faremo delle altre allora si era prenotata Maria Laura a cui darei volentieri la parola prego Maria Laura oh grazie per questa serata meravigliosa dove mentre parlava Zaccuini tutti tutti credo tutti come me ti siamo detti ma come si fa come si fa a non fare le stesse cose va bene lo sappiamo però vi volevo dire che credo che Milano forse è stata la prima in Italia non vorrei essere smentita con un nostro consigliere 5 stelle di eletto a 20 anni unico a entrare nel comune di Milano un ragazzo di 20 anni che si chiama Mattia Calise siamo riusciti a ottenere a Milano abbiamo il referendum deliberativo mi pare forse il 2016 ce l'abbiamo ma noi noi 5 stelle ma noi cittadini non abbiamo mai trovato tra i tanti problemi di Milano un tema così forte condivisibile che secondo noi avrebbe votato i 50 perché le regole per ottenere questo per proseguire per rendere pratico questo referendum approvato erano che doveva votare il 50% degli aventi diritto al voto il che vuol dire dunque già tutti quelli che hanno diritto al voto quando ci sono va il 20% a votare noi per il referendum dovevamo avere se non ricordo male il 50% delle firme degli aventi diritto al voto quindi dovevamo cercare delle cose che anche i sassi avrebbero dovuto non so insomma abbiamo non abbiamo mai potuto esercitarlo nessuno lo sa e c'è già però con dei limiti tali per cui era un modo per darlo ma non renderlo attuabile di tutto questo come informazione e poi una domanda Lionello ma perché suggerisci Milano concreta che è del nostro traditore del consigliere 5 stelle che se ne è andato ha mollato gli altri due e adesso si fa un partito tutto suo come mai tra le cose che suggerisci c'è Milano concreta prego Leo hai capito la domanda Leo te la devo rifare purtroppo gli interventi precedenti li ho sentiti ma non ho l'ultimo non ho capito la domanda tranquillo tranquillo te la ripeto io Maria Laura è di Milano ha portato avanti un esempio di un consigliere credo comunale di lunga data del Movimento 5 Stelle che ha portato avanti l'iniziativa della democrazia diretta in modo molto molto efficace a parte l'esempio che ha fatto di Milano su questo ti domandava come mai ti sponsorizzi in qualche modo comunque citi questa associazione cos'è Milano concreta se non ho capito male che che parrebbe essere gestita secondo Maria Laura da un traditore del Movimento 5 Stelle come la pensi su questa storia di Milano concreta confesso che evidentemente non posso sapere quali sono le dinamiche all'interno delle diverse città so che Milano concreta l'ho anche citata in una delle pagine della mia presentazione è una associazione una una lista civica mi pare che sia ecco sì vedo che Maria fa segno di sì con la testa grazie è una lista civica e so bene perché sono in contatto con alcuni di loro sono a favore di strumenti di democrazia diretta e strumenti di democrazia partecipativa quali siano le ragioni dei loro la storia dei loro rapporti eventuali col Movimento 5 Stelle sono dinamiche che mi dispiace ma mi sfuggono non non le conosco e quindi non posso rispondere alla domanda so a Milano peraltro che a fine del 2018 mi ero trovato invitato da Eleonora Evi del parlamentare europea e poi c'era Toninelli e avevamo fatto una bellissima discussione sui temi della democrazia diretta nella città di Milano però non conosco le dinamiche e il passato i trascorsi dei contatti io però su queste cose per cui non so rispondere raccomanderei però a tutti quanti di ci sono sempre delle divergenze tra i partiti anche all'interno dei partiti eccetera io raccomando a tutti per primo di tutto a me stesso di perseguire gli obiettivi se poi questi obiettivi più avanti un partito il Movimento 5 Stelle a mio avviso ha fatto molto perché per esempio Angelo a Roma mi piacerebbe grazie Angelo anche di essere qui mi piacerebbe parlare un pochettino con tutti voi di come fare a sostenere il grande lavoro che Angelo e gli altri suoi io conosco Angelo ma probabilmente non è stato il solo ha fatto perché è importantissimo è importantissimo che lo si sappia in Italia e purtroppo in Italia c'è la tendenza a non saperlo io mi sono associato al giornale Il Fatto Quotidiano perché speravo che quel giornale lì parlasse di democrazia diretta visto che mi sembra purtroppo li ho tartassati di messaggi gliene avrò mandati un centinaio ma il tema della democrazia diretta purtroppo anche in quel giornale lì che pur mi sembra mi sembrava diciamo orientato verso a favore di strumenti di democrazia diretta e partecipativa e in generale miglioramento della democrazia quel giornale non ne parla mai è stato fatto il Global Forum a Roma non lontano dalla redazione di quel giornale non si è schiodato nessuno da quella redazione per venire a sentire cosa diceva per esempio Riccardo Fraccaro che ha fatto un intervento a mio avviso memorabile e tutto l'evento è stato memorabile quello che quello che hanno fatto a Roma è da sapere è da diffondere ecco queste cose le dobbiamo dobbiamo riuscire a diffonderle a prescindere dai bisticci partitici perché se no non dobbiamo privilegiare i contenuti rispetto a quelle che possono essere delle divergenze che poi hanno anche loro la loro importanza se vogliamo non è che dico che uno deve ignorarle come purtroppo ignoro io la storia del gruppo citato Milano concreta non lo so so che si battono per quello e quindi sostengo chiunque chiunque si batta per quello altrimenti non si va mica avanti anche i poveri svizzeri per introdurre la democrazia diretta ci hanno impiegato 60 anni mica è stata una cosa di un momento con tutto con tutto che aveva una democrazia diretta medioevale durante dal 1200 al 1800 democrazia diretta medioevale che probabilmente hanno copiato dai comuni italiani comuni italiani che probabilmente abbiamo ereditato dalla città di Roma SPQR è una roba importantissima purtroppo quando si parla di democrazia diretta dovremmo inorgoglirci in quanto italiani e un pochettino qui in Svizzera io mi rendo antipatico ma lo faccio e perché la democrazia diretta viene più da Roma che non da Atene perché a Roma è durata centinaia di anni e la sua memoria ha contaminato il medioevo che ha contaminato la Svizzera che ha contaminato la California e praticamente è da lì che è venuta cioè la Repubblica di Venezia è stata importantissima nel sostenere la democrazia diretta che si chiamava l'assemblea medioevale che si chiamava il concio dove purtroppo ha anche un connotato un rudimentato negativo il vocabolo però diciamo come italiani facciamo bene a sostenere gli obiettivi purtroppo non so rispondere alla alla domanda va bene va bene no ma Leonello certo è chiarissimo quello che dici eventualmente poi Maria Laura ti manderà una bella letterina e ti spiega esattamente le dinamiche milanesi così sei edotto e sei aggiornato su cosa si muove sotto la madonnina va bene smutati Maria Laura che non ti sentiamo smutati smutati ci tengo moltissimo che Zaquini sappia perché tengo troppo alla sua lotta e battaglia che non deve sponsorizzare persone non credibili che hanno tradito in questo caso il movimento perché chi lascia il movimento se lui non andava d'accordo che è possibilissimo con gli altri due consiglieri si dimetteva e lasciava il posto a un altro invece si è dimesso per farsi il suo partito ecco quindi la non credibilità e la mancanza di correttezza di questa persona non vorrei inficiasse invece la battaglia vitale per il tema più importante del mondo che è questo della democrazia diretta e della civiltà di un paese ecco non vorrei che screditasse tutta la faccenda la persona in sé che è screditante tutto lì vorrei che lo sapesse e si chiama Simone Sollazzo si chiama io non so se è quella la persona con cui ha parlato Zaquini Simone Sollazzo ti riferisci sì sì vai 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 Leo hai capito la domanda io adesso ho sentito un pochettino meglio grazie Maria Laura ripeto io la storia delle persone non sono in grado di dirla sono in contatto con una persona che si chiama Luca Vinti non so se è quella ecco vedo che fa dei gesti non è la persona io so ma ripeto dobbiamo fare delle scelte vogliamo parteggiare per la democrazia diretta la democrazia partecipativa e migliori strumenti di democrazia oppure privilegiamo dei dissensi che ripeto avranno anche delle ragioni diciamo bisogna anche tenerne conto però io penso che sia meglio privilegiare gli obiettivi e in questo caso a me risulta che la la lista Milano concreta propone strumenti di democrazia diretta e strumenti di democrazia partecipativa devo confessare che pur sapendo che la realtà poi è più complessa e gli individui hanno anche altre caratteristiche e difetti io non posso non privilegiare i contenuti e penso che anche tutti noi facciamo bene senza dimenticare i dettagli che hanno anche loro la loro importanza però privilegiare gli obiettivi se poi ecco anche un'altra cosa la storia di cui ho parlato un pochettino nella mia presentazione però non potevo la storia ci insegna che la democrazia diretta viene fuori si realizza normalmente quando associazioni apartitiche cioè che non si candidano nemmeno come il caso delle leghe all'inizio secolo scorso negli Stati Uniti d'America come il caso del movimento che era un movimento effettivo democratico svizzero quando queste associazioni riescono a mettere in concorrenza tra di loro dei partiti politici che poi sono loro se non c'è la democrazia diretta loro hanno il monopolio del potere legislativo per cui sono loro poi che decidono e perché lo decidono lo decidono tipicamente perché se si riesce dall'esterno a convincerne due o tre che si fanno e alla fine il partito A per impedire che il partito B introdurrà la democrazia diretta sarà il partito magari C che riesce a proporle e ottenere cioè alla fine bisogna anche tenere conto di questi lasciatemi dire trucchetti però quello che conta a mio avviso è tutti quanti in quanto cittadini prima ancora che attivisti del partito A piuttosto che del partito B dobbiamo fare in modo che l'obiettivo sia perseguito dal maggior numero possibile di cittadini e di partiti anche e quindi diciamo dobbiamo in qualche modo tenere conto ma superare questo tipo di concorrenze e di divergenze e raccomando tutti di tenere conto di questa di questa di questa cosa qua perché la storia ci spiega che è stato l'elemento che ha consentito a sì ai partiti che in genere la democrazia diretta evidentemente gli complica la vita al partito perché diciamo è più semplice decidere tra pochi che non avere la scomodità però alla fin fine dobbiamo convincere dei partiti a proporre queste cose per fortuna c'è stato c'è il movimento 5 stelle che con tutti i problemi che ha ha parlato a favore della democrazia diretta purtroppo però anche producendo nel linguaggio nella terminologia generando degli equivoci perché per esempio su russo l'iniziativa veniva dall'alto e non dal basso per cui secondo hauer quella non è veramente democrazia diretta e poi comunque la democrazia diretta è un'attività legislativa non è un decidere all'interno di un'associazione un partito cioè quello si somiglia è giusto che ci sia la democrazia dentro i partiti dentro tutte le cose però il comitato una SPA non ha un Parlamento anche se il comitato il consiglio di gestione della SPA si può sembrare un sistema un organo rappresentativo degli azionisti però non si chiama Parlamento quello lì ecco per cui all'interno della piattaforma russo o all'interno di un partito non si fanno le leggi si propongono è giusto che ci sia la democrazia diretta però la democrazia diretta è il potere legislativo dei cittadini la democrazia diretta moderna il potere legislativo dei cittadini che affianca il potere legislativo degli organi rappresentativi e queste cose è importante che le teniamo presente noi e le propagandiamo quando qualche cosa va avanti quando a Roma fanno uno statuto che è un modello da seguire dappertutto bisogna riuscire a martellare il fatto quotidiano in così tanti che persino i riluttanti che ci sono lì dentro alla fine cedano e mettono un articolino che parla di quello che ha fatto a Roma e che si sappia in Italia che a Roma hanno fatto uno statuto che è una cosa che fa onore all'Italia ecco io direi così faremo faremo di più Antonello faremo di più penso che questa cosa del fatto quotidiano con Angelo con te adesso la la studiamo un attimo con Miriam in modo tale di portarti qui qualcuno del fatto quotidiano a partecipare a una di queste serate a tema su Roma in particolare e così poi dopo l'articolo ce lo scrivono ce lo scrivono di loro di loro volontà senza che glielo scriviamo noi che dici Miriam abbiamo tutti la fortuna abbiamo tutti la fortuna che Roma è simbolica già di per sé la democrazia diretta moderna in realtà si si somiglia a quello che c'è scritto a Roma dappertutto SPQR cioè non c'è nessuno che c'è il monopolio del potere legislativo i cittadini devono ratificare cioè è una cosa che da lì c'è arrivata fino attraverso il Medioevo attraverso anche la Svizzera è servita perché in Italia dalla democrazia diretta moderna si è passati alle signorie no la democrazia diretta medievale si è passati alle signorie invece gli svizzeri l'hanno conservata per fortuna perché poi è stata rigenerata nella forma moderna e quindi adesso torna a Roma ma è una roba da sogno bellissima eppure è una realtà dobbiamo riuscire a convincere il fatto quotidiano di scrivere sta roba qua non solo grazie Ronello non solo perché poi quando l'hanno scritto io sono abbastanza convinto perché oramai conosco i miei polli che a parte il fatto che il 90% delle volte quando viene fatta una roba di questo tipo poi arriva qualcun altro e dice l'ho fatta io e se ne assume la paternità e purtroppo questo capita anche nel movimento e quindi questo è già il primo tema ma non è tanto quello perché poi non è il lavoro di una persona perché poi uno è contento di aver fatto questo lavoro però è anche pure giusto che venga riconosciuto le battaglie ma quello importante è che oltre poi a diciamo dichiararlo che esiste questo strumento il nostro compito almeno penso come semplice cittadino è anche di poter utilizzarlo cioè di far conoscere come questo strumento possa essere utilizzato perché poi vi posso garantire una cosa che quando tu vai da un politico qualunque e forse anche del movimento e gli dici facciamo una delibera per promuovere la partecipazione e ti dirà di sì quando poi la delibera l'hai approvata e la partecipazione comincia dici no però adesso quindi adesso quindi la gente però questo noi la nostra linea politica è questa attenzione però che qui poi allora se decidono tutto e lì inizia la paura e invece no è proprio lì l'inizio quindi da questo punto di vista il grande obiettivo non deve essere quello di dire abbiamo fatto questa roba perché questo un po' è passato secondo me anche grazie al al Global Forum che di cui ha parlato Leonello che è vero ne hanno parlato in pochi ma io ricordo insomma perfettamente gli interventi e con Leonello ci siamo incontrati di là e conosciuti là anche se poi ho letto di lui prima però la cosa importante è fare in modo che gli strumenti oltre a essere conosciuti vengano utilizzati esatto che siano le petizioni che siano le proposte che siano i referendum i referendum io li vedo come fatto diciamo estremo prima è stato detto dalla signora che adesso non ricordo il nome che parlava di Milano che servivano le firme il 50% delle firme ora vi racconto una cosa diciamo così insomma un po' senza fare nomi allora lo statuto di Roma prevede prevedeva l'1% della popolazione residente poteva chiedere un referendum che tra l'altro leonello mi confermerà che per chiedere un referendum più o meno in tutti i paesi siamo tra l'1 il 2% il 3% no siamo a quella cifra cioè la percentuale di chi vuole indire un referendum è l'1% della popolazione di una comunità il 2% qualcuno arriva al 5% però insomma parliamo di piccole percentuali e purtroppo c'era diciamo una narrazione di chi invece dopo aver approvato lo statuto ha iniziato ad avere paura diceva quindi qui se uno vuole avviare un referendum a Roma servono passano 30.000 firme eh sì servono 30.000 firme e lì anche è stata la battaglia l'ho lasciato così e sulle firme quindi l'iniziativa per proporre un referendum sono circa 30 saranno 28.000 l'1% della popolazione residente Roma c'ha 2 milioni e 7 8 20 insomma varie cose quindi siamo intorno alle 30.000 per stare tranquilli da raccogliere in tre mesi 30.000 e poi è zero quorum l'efficacia il che significa che indipendentemente dal numero dei partecipanti il referendum sarà valido non è vincolante ma è obbligatorio cioè vuol dire questo perché è tutta una trattativa una negoziazione con il con gli uffici però significa che l'amministrazione è obbligata è obbligata per il proprio statuto e quindi se tu non ti determini arriva un commissario che convoca l'assemblea stava per succedere questo tu entro in determinata data devi portare in assemblea capitolina una delibera con la quale accogli o meno il risultato referendario motivando l'eventuale non accoglimento nel caso del consultivo motivando politicamente nel caso dell'abrogativo e del propositivo non è una motivazione politica ma un'adeguata motivazione che ovviamente vuol dire che è come se fosse un provvedimento amministrativo che deve essere adeguatamente motivato e quindi se tu non lo motivi bene qualcuno te lo potrebbe pure teoricamente impugnare allora io credo che oltre all'operazione di far conoscere di lasciare questo perché questo insomma la considero un po' un'eredità e poi spero che qualcuno prendi il testimone e continui a portarlo avanti ma quello perché se poi non vince il movimento spero che vinca quantomeno qualcuno del campo del centro-sinista perché non credo che il centro-destra diciamo sia molto vicino al tema referendario anche se recentemente vedo che anche Salvini e gli altri stanno iniziando anche loro a utilizzarlo ovviamente come strumento politico di lotta però alla fine secondo me stanno iniziando tutti a utilizzarli e io credo che sia importante farli utilizzare cioè farli conoscere ma per farli utilizzare non farli conoscere basta perché farli conoscere basta ti diventa l'articolo sul fatto quotidiano è morto lì invece io credo così come ha fatto Leonello oggi con noi fare un'operazione di questo tipo se tu la fai in modo civico anche la fai con i comitati spieghi come funzionano cosa possono fare quali sono i loro diritti che possono esercitare a quel punto chiunque andrà a governare che sia il centro-sinistra che sia il centro-destra che siamo il centro-cinque stelle dall'altra parte si ritroverà una comunità che mano a mano comincia a prendere coscienza dei propri diritti di partecipazione e quindi poi le strade saranno due da parte di chi amministra o rifiutano il confronto e allora sulla base di quello non saranno violetti oppure saranno costretti a mettersi seduti con i cittadini e essere più trasparenti questo io credo che sia la strada grazie Angelo grazie Maurizio Manca che è con noi anche lui dalla Svizzera ti chiedeva per caso sai se qual è il quorum del regolamento del comune di Milano ti ricordi qualcosa? io? sì hai già detto Angelo mi sembra io ho trovato il documento l'ho letto dal cellulare in maniera veloce mentre rispondeva Leonella a una domanda prima è da studiare bene perché non ho trovato la parola quorum per prima cosa e quindi vorrei nella parte della delibera nel regolamento ci sarà scritto che l'esito referendario il referendum è valido se approvato ti dirà sicuramente dalla maggioranza perché quello è il quorum diciamo approvativo quindi dalla maggioranza dei votanti o dalla maggioranza segmenti diritto e lì diciamo ti entra perché l'ordinamento non cita mai quorum la parola quorum però diciamo da un punto di vista tecnico è il quorum approvativo il quorum di validità ce ne sono vari tipi quindi leggendo di solito se è strutturato bene il regolamento c'è la fase della proposta la fase della consultazione la fase del voto e quindi nell'articolo dove si parla del voto e degli effetti correlati al voto ti dovrebbe anche articolare quali sono diciamo le conseguenze io ricordo che effettivamente su Milano c'era stata un'azione tra l'altro lì c'è un un assessore mi pare Lipparini si chiama una roba del genere poi non so Leonello forse si ricorda che è dei radicali perché i radicali devo dire che rispetto ad altre forze politiche hanno praticamente tutto i loro programmi sono spesso incentrati sugli strumenti di democrazia diretta non è un caso che comunque i referendum più importanti della storia italiana diciamo li hanno proprio promossi loro quindi loro è uno strumento in cui hanno sempre creduto e anche noi insomma ci abbiamo sempre creduto bene grazie Federico aveva la mano alzata già da un quarto d'ora e gli diamo la parola finalmente forse più di un quarto d'ora tranquilli non è un problema è stato un piacere ascoltarvi io la ringrazio professor Zaquini per l'esposizione che ci ha fatto oggi soprattutto se penso a come si svolgono solitamente i consigli comunali nella mia città io non sto in consiglio comunale ma collaboro con i consiglieri e già solo per riuscire a ottenere un consiglio comunale aperto due anni fa abbiamo faticato enormemente il consiglio comunale aperto non è nulla rispetto alla democrazia diretta è solo un'assemblea in cui possono parlare i cittadini io mi ricordo che solo per far prendere le firme dai consiglieri e quindi dai consiglieri dell'attuale maggioranza diciamo che l'abbiamo dovuto un po' ingannare per riuscire a farci dare le firme per poi fare questo consiglio comunale aperto la prima cosa che ci ha detto il sindaco è che eravamo i soliti criticoni e che volevamo solo fare del mare alla città con un consiglio comunale aperto detto questo io sono rimasto un po' basito da una cosa che lei ha detto sulla democrazia diretta un punto fondamentale è il federalismo se penso a come è stato attuato il federalismo in Italia ho un po' paura di quello che lei dice nel senso che in Italia il federalismo è diventato un metodo per le regioni del nord per non dare soldi alle regioni del sud o comunque qualcosa di simile come si può evitare questa degenerazione professor Giacchini Allora anche del federalismo come della democrazia diretta purtroppo se ne può parlare in modo tale da generare delle incomprensioni e anche produrre delle motivate paure perché ogni cosa può avere dei risvolti positivi o negativi purtroppo per come la vedo io diciamo da un paese molto federalista che è la Svizzera in Italia la Lega ha parlato del federalismo parlava del federalismo in un modo diciamo opposto a quello che il federalismo è e dovrebbe essere però ne parlava veramente come uno strumento per fottere quei maledetti terroni la Lega aveva questo ha propagandato del federalismo il federalismo invece è il modo di essere uniti essere solidali rispettando le differenze cioè non è il modo per fottere il vicino ma è il modo di essere assieme pur rispettando le differenze qui in Svizzera di differenze e Maurizio manca che vive anche lui in Svizzera può confermare cioè già in Parlamento parlano tre lingue non quattro come ce ne sono nel paese a parte che poi ci sono i dialetti i dialetti che vengono insegnati però nelle scuole cioè gli emigrati imparano oltre al tedesco imparano il dialetto del posto poi ci sono tutte le religioni qui noi saremmo protestanti ma vado a piedi nel cantone del Giurà e sono cattolici quindi è un paese di assolute differenze ciò nonostante riescono a essere uniti su certe cose per cui il federalismo io sono sicuro che interpretato nel modo giusto cioè creare l'unità rispettando le differenze è importantissimo per esempio faccio un esempio che si avvicina un po' ai nord nel consiglietto comunale di cui ho fatto parte per a lungo tempo abbiamo deciso che il sindaco si elegge in un certo modo e che poi è a rotazione di un anno cioè non è che c'è stato diciamo il papa infallibile a Berna cercatemi di dire che ci ha detto come si deve eleggere il sindaco il sindaco perché non lo decidono i cittadini come si elegge il sindaco cioè se se il sindaco è il rappresentante della città sono i cittadini che devono decidere le sue funzioni il suo modo di essere nel rispetto magari di un quadro generale in cui per esempio sia vietato che so la monarchia però in un quadro generale il quadro generale è quello il principio seguente e cioè si decide sul posto tutto quello che è possibile decidere sul posto per esempio il sindaco i poteri del sindaco il sindaco a rotazione eccetera eccetera si decide sul posto e invece si decide a livello federale centrale le autostrade perché non ha senso decidere a livello comunale come gestire l'autostrada oppure le forze armate quindi il federalismo è uno strumento importantissimo di democrazia perché consente localmente di decidere le cose importanti localmente e questo ha anche un effetto diciamo spiazzante nei confronti delle lobby perché a una lobby gli fa un gran piacere la concentrazione del potere il non plus ultra per la lobby è la monarchia perché così hai la corte ti inserisce ma più il potere è distribuito per esempio con il federalismo più i poteri influenti hanno difficoltà e quindi il federalismo è importantissimo però è uno strumento di democrazia molto molto importante come gli altri che permettono di distribuire il potere però purtroppo capisco benissimo il commento diciamo perplesso perché purtroppo in Italia il federalismo è stato venduto come uno strumento di divisione non come uno strumento di delega del potere avvicinandolo alle popolazioni e questo dobbiamo invece a mio avviso rivendicarlo rafforzando però anche l'importanza della unità che questo potere gestito localmente può consentire spero di avere risposto alla perplessità perché è una perplessità che ha una importante ragione d'essere e è importante penso dargli la risposta perché il federalismo tra gli strumenti di democrazia è molto importante grazie grazie mille è stato molto chiaro certo chiarissimo noi in Italia facciamo tutte le cose come diciamo peggio si può ecco diciamo così Mario Antonio Morello prego fai la tua domanda anche tu hai la mano alzata da più di mezz'ora prego si stava spegnendo il telefonino un momento tranquillo veloce veloce aspettate adesso la velocità però fermati vai 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 sono stato paziente e vi ho ascoltato tutti quanti in religioso silenzio adesso come dire volevo ringraziare innanzitutto l'ingegnere Tattini perché sprizza come dire spruzza da tutti i poveri democrazia diretta quindi è una persona proprio si vede si percepisce che è una persona integra cioè non dice bene il razzo la mano ma è abbastanza coerente quindi lo ringrazio per questo esempio che stasera ci ha dato però ecco io ho scritto delle domande non so se sono state prevenute però io le crangello queste domande e faccio un po' il bastian contrario cioè dire è come dire voglio evitare che ci sia un eccesso di conformismo di gruppo per cui come dire lancio alcune provocazioni mi sente ingegnere riesce a sentire mi sente purtroppo ho sentito soltanto la domanda se riuscivo a sentire no no mi dispiace la volevo ringraziare per questa sua come dire sprizza come dire da tutti i pori coerenza dal punto di vista della democrazia però nonostante tutto le ferò una domanda un po' come dire provocatoria no e la domanda prende spunto da due aspetti la prima suggestione viene dal facendo una sorta di parallelismo tra la mano invisibile che di cui smith parlava per per dare voce alla competizione all'economia di mercato che avrebbe risolto tutti i problemi in quanto attraverso come dire questa conflittualità attraverso la ricerca dell'interesse personale alla fine veniva fuori l'interesse collettivo e perché parallelismo perché all'interno del mosaico Michelangelesco che lei ci ha disegnato interessantissimo validissimo secondo me mancano due tasselli due tasselli adesso come dire le do un pochino gli elementi per capire quali sono questi due tasselli primo il discorso del questa democrazia diretta così articolata e così bene equilibrata nasce in due contesti come dice California e Svizzera che sono delle nazioni molto ricche quindi come dire c'è un benessere diffuso una ricchezza diffusa diffusa perché le dico questo perché mi stasse mi sente o sto parlando troppo piano velocemente chiedo conferma ingegnere io purtroppo ho questo problema d'udito vai al punto che poi faccio io la domanda che a me mi sente meglio vai al punto il punto è questo diciamo il discorso è che all'interno di questo quadro Michelangelesco manca in qualche modo il discorso del benessere economico e le dico anche il perché se per esempio va a vedere o si vanno a vedere i voti che ha avuto la destra populista nel comune di Roma le perifere romane dove viva circa il 50% della popolazione si vede che lì il consenso si è avuto dove c'è maggiore disagio sociale c'è alta densità di popolazione carenza di servizio disoccupazione e basso livello culturale quindi lei capisce bene che il discorso della democrazia diretta dovrebbe comunque tener conto di questi aspetti e cercare in qualche modo di risolverli e di rimuoverli prima che possa in qualche modo attecchire poi il discorso del federalismo si è vero il discorso che il federalismo in qualche modo in Italia è stato interpretato male ma non solo perché voleva fare perché era stato portato avanti dai popoli del nord al discaputo dei popoli del sud ma poi in effetti è stato anche un discorso di disonestà cioè è stato un modo anche per far proliferare il poltronificio quindi e quindi mi riconduca un'altra dimensione importante appunto di stare alla democrazia diretta al discorso del benessere economico in qualche modo quindi non il disagio sociale e anche un discorso di etica di onestà abbastanza difficile Leo hai capito le domande se no te le ripeto eh io ho avuto comunque difficoltà chiedo scusa è colpa mia perché se non diventavo sordo era meglio tranquillo tranquillo mi sembra di percepire come se ci fosse una perplessità nell'uso della democrazia diretta in Italia magari a causa di una sorta di impreparazione culturale sbaglio che è giudicata presente in Italia e se è questa se è questa la perplessità attenzione che lei ha il microfono spento per cui sì sì è questa la perplessità questo è riduttivo parlare solo parlare solo di formazione il discorso della competenza è importantissimo ed è una variabile importante ma c'è un discorso anche di disagio sociale di disagio economico di disagio che viene fuori dalla disoccupazione dalla carenza di servizi quindi c'è anche questo grosso problema questo nodo da sciogliere volevo poter dire un piccolo commento è possibile su questa domanda Terminio aspetta fai finire se posso rispondere un attimo prego 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 Leo però se questa era se ho capito il contesto allora la risposta a questo dubbio si mi pare opportuno rispondere con questi argomenti anche gli svizzeri che adesso usano la democrazia diretta diciamo non perfettamente domenica scorsa hanno votato in un modo che secondo me contiene anche degli errori secondo me però la democrazia diretta l'effetto principale della democrazia diretta è quello che fa rigare è dritto la democrazia rappresentativa i rappresentanti quello che mi ha convinto a me era che il consiglio comunale il fatto che i cittadini potessero prendere l'iniziativa ci faceva lavorare meglio a noi se poi i cittadini anche sbagliano sbagliano una volta su 100 decisioni migliori che prendono i rappresentanti questa mi sembra la prima obiezione opportuna da fare cioè la seconda obiezione che farei è quella che la democrazia diretta e la democrazia qualsiasi democrazia parte sempre da qualcuno che non la sa usare perché la democrazia non è che la si studia sì si potrebbe essere usata a scuola ma soprattutto la si impara esercitandola un po' come andare in bicicletta non è che uno ti spiega guarda devi fare così e siccome te l'ha spiegato vai in bicicletta o la bicicletta o te la procuri e poi provi ad andarci oppure le belle passeggiate non te le fai la democrazia diretta è un po' la stessa cosa bisogna averla esercitarla e poi si impara gli svizzeri prima della democrazia diretta ci fosse la democrazia diretta si sono fatti una guerra civile sulla riforma della scuola ecco questo per dire il livello di diversità di maturazione oggi è inconcepibile che che in svizzera scoppia una guerra civile sul tema si chiamava Sonderbund 1847 quindi anche gli svizzeri non è che sono nati svizzeri sono diventati svizzeri e noi italiani noi italiani la democrazia diretta la usavamo prima di loro a questo punto sulla attitudine degli italiani c'è un testo che volevo mettere nella mia presentazione ma poi non l'ho fatto perché era già lunga che è interessantissima ed è sempre nel quel documento di Berlinguer che era dell'81 dove cita la democrazia diretta e cita degli esempi di uso degli italiani della democrazia diretta noi italiani nel per esempio nel 2011 quindi molti anni dopo che Berlinguer già aveva spiegato che votare per le cose cioè per esempio divorzio sì o no è più facile che non e gli italiani lo fanno meglio secondo Berlinguer e anche secondo me lo fanno meglio che non eleggere le persone perché eleggere le persone è estremamente più difficile quindi avere paura della democrazia diretta perché gli italiani si sbaglierebbero allora bisognerebbe dire no no professore mi perdoni mi perdoni sono stato frainteso il mio non voleva essere questo il mio intendo era una provocazione legata al fatto che bisognava tenere conto anche di altre variabili derivanti dal disagio dalle diseguaglianze economiche dalla disoccupazione dalla carenza di servizio quindi anche questi aspetti vanno in qualche modo affrontati senza nulla togliere alla validità perché altrimenti io non mi ritroverei a come dire a a pensare a elaborare e a collaborare con questo gruppo quindi lungi da me il fatto di di voler sminuire la valenza l'importanza anzi io ci credo tantissimo non capisco non toglierei il diritto di voto a chi è disoccupato non vedo non togliere rimuovere è un'altra cosa è un'altra cosa che domanda vorrei provare a dare una risposta prego ti spiego c'è una frase di Rousseau che ripeto ma non è esattamente quello che poi riesco a dire è così bella come dice lui dice che la democrazia diretta esiste solo quando nessuno può comprare i voti degli altri e nessuno può venderlo mi parla un concetto di questo genere allora cosa vuol dire vuol dire che la situazione economica per esercitare la democrazia diretta è una componente importante bravissimo bravissimo secondo faccio c'è un film che ho visto interessante mi sfugge il regista ma giro per il mondo e sento un giudizio sulla democrazia diretta in America in America Latina in Pakistan comunque in Siria e altre parti e a un certo punto uno trovi in Siria sapete che c'è gente che è anche una certa elettroterra culturale abbastanza europeista e dice a uno che è laureato dice ma tu se tu dovessi votare come vedi la democrazia diretta per la tua vita lui risponde è una bella proposta ma io in questo momento sceglio quello che mi dà la pagnotta cioè se non mi fa superare questa fase io il problema di dargli a esprimere il mio voto in privo cioè libero e cosciente lo subordino a una situazione anche esistenziale che è primaria di sopravvivenza su questo argomento viaggiano i populismi i populismi mangiano su questa diciamo così creazione di questo paura di queste cose per poi trascinare dietro di sé la gente non per una democrazia diretta ma cercare i leader che gli garantisci tutto quello che è i vari esperienti esperienze Hitler Mussolini netto e quanti quelli i leader i leader del Sud America e altri sono tutti poi alla fine giocano su questa cosa e non vogliono una democrazia diretta e partecipata alla gente ma usano per questione di potere come si sa prima il conflitto di interessi gesticano più una deviazione a loro coerente e che gli serve penso che Morello cioè voleva dire questo no? Sì hai reso molto meglio sì dal mio punto di vista che poi devo dire che dentro la cittadinanza finisco è un elemento che stabilizza la gente per poter votare con maggiore libertà perché non deve correre dietro a chi diciamo è l'unico che gli può dare la pagnotta è un discorso che in quel senso lì lo vedo poi non lo vedo come quando diventa quello che è un'opportunità per non cercarsi il lavoro per quanto riguarda di poter svolgere un'attività questo è un altro ragionamento però stabilizzare questo discorso sociale a una cosa non di sopravvivenza estrema è già un passo avanti anche per creare democrazia partecipata dalla gente affinché la democrazia partecipata accicchisca veramente e non diventa se la gente ci creda che l'ottopistico accetta e condivida grazie Erminio grazie Mario Leo prego poi passiamo una domanda vorrei aggiungere un commento e raccontare un aneddoto gli italiani non sono tanto asini nell'uso della democrazia diretta che già c'è in Italia non è che non c'è è limitata ma c'è tanto è vero che noi italiani abbiamo fatto scalpore in Svizzera nel 2011 quando dopo aver votato eletto perché tra votazione e elezione non sono sinonimi dopo aver letto il cavalier Burlesconi lasciatemi dire come diceva un mio collega di lavoro che non si smette il cavalier Berlusconi lo chiamava Burlesconi non per provocatoriamente ma si sbagliava dopo aver votato eletto diverse volte il cavalier Burlesconi al momento di votare per certi suoi referendum tra cui quello che doveva essere esentato dai processi come si chiama libero impedimento non mi ricordo più come si chiamava e gli italiani gli hanno bocciato le leggi e questa cosa ha fatto scalpore in Svizzera perché dicevano guarda gli italiani votano sempre il Burlescone e poi gli votano contro le leggi che lui ha proposto questo molti anni dopo che Berlinguer diceva la stessa cosa però l'obiezione resta in piedi nel senso che per usare la democrazia diretta ci vuole un po' di preparazione gli svizzeri hanno questo speriamo che anche in Italia si introduca questo lo speriamo tutti lo speriamo vorrei finire l'aneddoto sarò breve in Tunisia al Global Forum che ci è tenuto alcuni anni fa alcuni tunisini che erano a favore della democrazia diretta esprimevano però parere simile e dicevano il nostro popolo tunisino voterebbe sempre in modo gregario vuol dire votare non per sui contenuti ma per simpatia antipatia cosa che già gli italiani fanno meno perché per simpatia avrebbero dovuto dare al cavalier il burlescone i libri allora riflettendo ci eravamo immaginati una soluzione che oltre al libretto i cittadini ricevessero anche un questionario e che oltre al voto dovessero anche rispondere al questionario che dimostrasse la loro preparazione sul tema questa proposta era piaciuta molto a quelli che facevano l'obiezione in Tunisia quindi a parte che gli italiani pare che non ne abbiano bisogno perché poi sbagliano magari anche loro qualche volta a votare ma abbiamo alle spalle veramente una lista di risposte azzeccate ripeto che abbiamo stupito gli smizzeri ma si potrebbe anche inventare questa cosa ma aggiungo e finisco i parlamentari o in Italia non leggono le leggi che votano gliel'ho chiesto ad alcuni di loro e hanno ammesso non li ho chiesti a tutti e del resto cosa ti metti a studiare una legge se devi votare come il partito comanda come purtroppo in Italia è abbastanza consuetudine tanto che viene persino considerato normale per cui questo questionario io lo farei anche per i parlamentari che si sappia che si sappia e alle alle elezioni successive si raccoglie la media del voto e tu sai a chi dare la precedenza la preferenza in base al voto che ha preso nel riempire i questionari ecco questo metodo diciamo estremo si potrebbe persino estendere ai cittadini cioè chi non si è studiato il libretto qui ci va il lavoro di qualche giorno a studiare questa roba qua a studiarla bene e poi delle volte devi ancora andare a fare degli approfondimenti in rete per cui un questionario vediamo se tu hai studiato la materia e con domande estratte a sorte ecco questa soluzione i tunisini obiettavano che a casa loro i loro concittadini avrebbero spesso votato in modo gregario cioè per simpatia antipatia senza entrare nel merito dei problemi si fa un questionario così se rispondi alla metà delle domande il tuo voto vale 0,5 se rispondi a tutte le domande il tuo voto vale 1 se non rispondi a nessuna domanda il tuo voto vale 0 e questo però questo però questa bella idea io la applicherei per primo in Parlamento perché so che dovrebbe avere effetto va bene Leo poi copiano tra di loro il più bravo passa i risultati gli altri si copiano il bigino per risultare Leo sembra che sembra che il casino nel Movimento 5 Stelle si sia originato quando qualcuno ha pensato di mettere il mi piace al proprio elettore al proprio eletto al proprio portavoce quindi se tu gli metti questo questionario questi a noi non ci fanno vota più capito si imbetano si imbetano nel modo per escluderci dal voto completamente dice ci pensiamo noi voi non siete in grado ti voglio leggere la domanda di Miriam Maurizio l'aveva fatta già da un po' e poi ti do la parola Miriam chiede la prefazione del tuo libro è di Luigi Bobbio il libro è del 2015 e Bobbio purtroppo muore nel 2017 oggi la cattedra in mediazione dei conflitti e dibattito pubblico presso l'Università di Torino è ricoperta da Andrea Pillon socio di avventura urbana dal 1999 cosa ha secondo te incrinato la piattaforma Russo e favorito avventura urbana nella storia del Movimento 5 Stelle non so se ho la voce era bella squillante ma mi sono perdita allora guarda la piattaforma la piattaforma Russo la piattaforma Russo ha avuto da un lato secondo me il merito di propagandare la democrazia diretta purtroppo però anche lì c'è una critica da fare nel senso che rigorosamente all'interno di un di un'organizzazione un'associazione un partito non è democrazia diretta propriamente la democrazia diretta è legiferare altro inconveniente è che il metodo applicativo purtroppo con l'annuncio della votazione che arriva la mattina per il giorno stesso non solo ma non è su iniziativa degli attivisti o dei cittadini cioè non è dal basso ma dall'altro per cui il termine corretto è quello del plebiscito in quel caso lì tecnicamente è quello per cui purtroppo parlando di democrazia diretta cosa che mi capita perché mi hanno invitato a diverse conferenze diciamo il rischio è che come la Lega ha fatto una cattiva propaganda del federalismo anche l'uso della democrazia diretta in modo diciamo un po' impreciso possa generare delle paure nell'uso della democrazia diretta e che si consideri la democrazia diretta come qualcosa di diciamo che ti piove dall'alto e non è generata dai cittadini stessi e gli altri inconvenienti la mancanza di questo in particolare questi inconvenienti sono pericolosi e su questo secondo me dobbiamo fare attenzione per fortuna come Maurizio Manca che è qui che è più competente di me su questo tema perché ha dei contatti molto importanti e molto interessanti per fortuna all'interno della piattaforma Riusso ci sono persone anche attente a questo tipo di problemi e di commenti e infatti stiamo collaborando con loro proprio su questo su questa cosa però il pericolo c'è diciamo analogo per certi versi simile a quello che ho citato prima sul federalismo spero di aver risposto se vai sulla chat della nostra serata c'è tutta la domanda Miriam chiedeva un'altra cosa leggila un attimo aspetta c'è qui presidente credo che il presidente era pubblica sordo grazie vai sopra io sono d'accordo io sono d'accordo sali sali di un paio di domande solo quel limite sali sali di un paio di domande cosa viene scritto sul libretto no ancora ancora sopra qui c'è una domanda interessante del come viene scritto il libretto però forse rispondo a quella domanda lì allora il libretto delle votazioni in Svizzera è scritto da una commissione specifica a mio avviso è fatto molto bene a livello federale a livello cantonale comunale invece non è fatto tanto bene non so Maurizio se hai le tue impressioni ora è interessante che invece nell'Oregon nel Stato degli Stati Uniti d'America e anche in un cantone svizzero che è il Vallese anzi nella città di Sion il libretto delle votazioni è fatto dai cittadini da un gruppo di cittadini estratti a sorte che si trovano sono in contatto con i propositori e gli oppositori ne raccolgono le idee e redigono il libretto delle votazioni è anche un sistema molto interessante inventato negli Stati Uniti d'America e copiato da alcuni cantoni svizzeri in Italia abbiamo provato a farlo diciamo anche se tra un gruppo di cittadini quindi era un metodo il nostro metodo era simile per certi versi a quello usato nell'Oregon il libretto delle votazioni è uno strumento assolutamente molto importante perché è lì che ti fai le idee giuste non puoi guardare la televisione di proprietaria questo sarebbe un discorso in più come avere la informazione come servizio pubblico vado a leggere se ci sono altre domande sali sopra c'è quella di Miriam sali un pochino torna indietro vado più sopra sì il libretto votazione sali sali un po' un paio di domande sopra però non credo che Lionel lo conosca ecco la mia domanda la prefazione del libro è Luigi Bobbio del 15 oggi la cattedra di mediazione dei conflitti di Andrea Pilon socio di Aventura Urbana mi dispiace ma anche se ho molti contatti con Torino perché ho tre figli che vivono lì e c'ero lì la settimana scorsa non so esprimermi su Aventura Urbana non conosco sto ripetendo la situazione del caso di Milano ok ok sono sono peccaminosamente ignorante di molte cose sei svizzero sei svizzero sei svizzero quindi non puoi sapere tutte le cose italiane sono purtroppo svizzero però qui c'è Maurizio che anche Maurizio tu oltre a essere svizzero anche tu sei anche tu con legami torinesi forse puoi esprimerti tu su sua avventura urbana Lionello per cortesia credo che tu mi senta bene ti spiace tenere il microfono in maniera che non tocchi la camicia perché se il tuo microfono tocca la camicia dà disturbo quindi cerca di tenere il microfono lontano dalla camicia o dalla barba io mi sembra di avere il microfono lontano dalla camicia adesso sì prima ce l'avevi posizionato chiedo scusa chiedo scusa non mi ero accorto tranquillo tranquillo grazie Maurizio l'unico collegamento che conosco tra Movimento 5 Stelle e Avventura Urbana è Laura Castelli però non so rispondere alla domanda di Miriam invece volevo rispondere alla domanda di Federico non so se Leonello nel suo intervento quando ha parlato di federalismo ha raccontato anche dei due strumenti principali che sono tecnici che sono la perequazione finanziaria e il principio di sussidiarietà che sono importanti perché il federalismo funzioni cioè il principio che ogni livello amministrativo cioè il comunale il cantonale e il federale si occupi di quello di cui può occuparsi e non sia il livello superiore a farlo cioè l'ha spiegato più o meno con le autostrade e quello è proprio scritto in Costituzione è spiegato eccetera e la perequazione finanziaria invece è quello che evita quello di cui parlava Federico è esattamente l'opposto di quello che vorrebbero i leghisti ad esempio cioè le regioni ricche devono aiutare quelle povere e succede tra i cantoni cantoni ricchi pagano per i cantoni che hanno meno entrate fiscali perché hanno contadini invece che aziende informatiche eccetera e questo anche scritto in Costituzione e poi un'altra cosa a cui ha accennato Leonello era che abbiamo uno spazio forse lo sapete già ma lo ripeto uno spazio sul blog delle stelle che parlerà per un po' di settimane un po' di mesi proprio di democrazia diretta e a noi interessa sapere quello a cui siete voi interessati se ci fate delle domande noi nelle settimane successive cerchiamo di andare in profondità sui temi che interessano a voi perché non abbiamo ancora tutto il piano per le prossime puntate quindi possiamo muoverci a seconda dei vostri interessi ad esempio visto che in chat non so più se era Stefania forse che chiedeva un po' di statistiche cioè la percentuale dei votanti eccetera io nel primo intervento che abbiamo fatto sul blog ne ho accennato ma proprio una frase solamente ed era quella che solo l'80% delle iniziative arrivano in votazione cioè raccolgono il numero necessario di firme e solo il 5% finora dal 1891 che si è calcolato solo il 5% ha avuto esito positivo cioè nel 95% dei casi la popolazione ha votato no alle iniziative però se vi interessa invece il tema statistica ad esempio se c'è un interesse possiamo andare poi in un post specifico più in dettaglio e parlare del fatto che per esempio votano pochissimi alle elezioni non arrivano quasi mai al 50% dei votanti poche volte ma non è interessante perché appunto qua non c'è il quorum quando c'è nei referendum obbligatori che c'è sia il quorum a livello di numero di cantoni la metà più uno dei cantoni deve votare deve avere un risultato positivo e anche lì c'è il c'è solo il quorum del numero dei cantoni vero Lonello che in alcuni referendum obbligatori ci deve essere un 14 cantoni su 26 su quanti sono adesso mannaggia ho appena passato l'esame per diventare svizzero e già non mi ricordo più il numero dei cantoni ecco allora devono essere 14 a votare sì alle iniziative però solamente per un tipo specifico di referendum esiste questo doppio quorum il 50% più uno dei votanti devono dire sì e il 50% più uno dei cantoni devono aver detto sì e l'ultima cosa ho perso purtroppo la prima parte della presentazione di Lonello spero che abbia sottolineato la questione delle tempistiche che è fondamentale cioè il dare tanto tanto tempo agli elettori per formarsi un'idea per dibattere discutere anche al bar non solo guardando la tv la maggior parte delle discussioni che si fanno soprattutto nei piccoli comuni si fanno nelle piazze incontrandosi per strada Lonello ad esempio non so se vi ha raccontato della table situaienne si chiama nel tuo paese di Lelocle dove la domenica si incontrano proprio attorno a un tavolo nella piazza sotto un tendone a parlare dei problemi del paese e poi si hanno solamente mi sembra quattro votazioni all'anno dove si raggruppano più referendum alla volta come questa domenica ne avevamo cinque e lì quindi hai più o meno tre mesi circa di preparazione perché sai già cosa sarà tra tre mesi e tra sei mesi la votazione hai tempo non c'è magari ancora il libretto a disposizione però puoi già formarti un'idea con google e parlando con gli esperti del tuo paese e credo di aver detto tutto scusate se ho preso più tempo del necessario ma figurati Maurizio sei stato bravissimo grazie grazie del tuo intervento ci adopereremo per suggerirti qualcosa tranquillamente la domanda che faceva Paolo dice quali sono le iniziative di democrazia diretta intrapresi in Europa e quanto sono efficaci avete notizie di questo in Europa c'è l'European Citizens Initiative che effettivamente è uno strumento di democrazia diretta ha vantaggi e svantaggi per come la vedo io il suo maggiore vantaggio che è un esempio per per tutti è che sono ammesse le firme via rete di firme ne serve un milione un milione di firme però su 500 e fischia milioni di cittadini e quindi diciamo è un rapporto ancora il problema della le leggi d'iniziativa popolare europee non sono votate dal parlo non sono sono in realtà discusse credo solo dalla commissione a differenza di quello che succede in Italia quindi si somiglia alle leggi d'iniziativa popolare esistenti in Italia previste dalla Costituzione però diciamo tradite dal Parlamento nel senso che il Parlamento ne discute quasi nessuna e ha praticamente questa si prende questa libertà in conseguenza dei regolamenti del Parlamento stesso Camera e Senato secondo i quali le leggi vanno discusse o come si dice calendarizzate prima con una gerarchia prima quelle proposte dal governo poi quelle proposte dai parlamentari e da ultimo quelle dei cittadini che non arrivano mai a essere discusse solo molto molto raramente per cui è uno strumento debole di democrazia diretta però è uno strumento di democrazia diretta in Europa è gestito un pochettino meglio perché mi risulta che comunque le discutono posso aggiungere vai leonello c'è anche da aggiungere che è possibile raccogliere le firme elettronicamente esatto questo l'ho detto prima il problema non è tanto sul milione ma è raccogliere anche mi sembra sette paesi sì esatto bisogna raccogliere un milione e non tutti nello stesso paese ma sei o sette paesi non mi ricordo quanti solo una si è andata in discussione è possibile sette paesi dice lui sette paesi e solo una si è andata in discussione in commissione tra tutte quelle che hanno e viene discusso in commissione sì una sola però finora sì però almeno sono gestite trattate mentre invece e poi c'è il grosso vantaggio da reclamizzare secondo me della raccolta delle firme elettroniche bene Lonello io invece ti volevo fare una domanda il tuo libro io ce l'ho su supporto elettronico e non sono bravissimo a leggere il primo libro pensa che leggo leggo sul computer gli altri li leggo tutti in cartaceo e sono arrivato a leggere le prime 50 pagine una delle frasi che mi ha colpito vorrei che me la spiegassi un po' meglio è quella che secondo te la democrazia diretta funziona meglio quando è supportata dall'associazionismo mi spieghi che cosa intendi dall'associazionismo quando ci sono associazioni culturali o o di scopo diciamo aiutano la democrazia diretta mi spieghi perché è in realtà un'associazione se ci sono strumenti di democrazia diretta ma questo vale anche un po' in Italia ma comunque in Svizzera lo si vede di più l'associazione diventa uno strumento una rete di contatti anche di persone che hanno interessi spesso su temi specifici simili e quindi diciamo sono degli strumenti importanti per per esempio promuovere la raccolta delle firme oppure per fare la propaganda una volta che le firme sono raccolte per il sì o per il no la domenica scorsa si è finita la votazione su dei temi ecologici che stanno molto a cuore ai contadini i contadini si sono mobilitati in modo importante per impedire e ci sono riusciti il successo di questa votazione ecco l'associazionismo è praticamente fa la concorrenza ai partiti cioè sono strumenti che vivono del loro argomento associativo ma sono anche spesso e volentieri coinvolti in attività politiche perché il loro secondo il tema l'argomento possono essere coinvolti tant'è vero che l'amico Andreas Gross ex parlamentare svizzero ne ho parlato prima grande conoscitore della democrazia diretta mi assicurava che in Parlamento nel Parlamento federale prima di fare una legge è consuetudine consultare non solo anche le minoranze del Parlamento eccetera ma anche perché poi la minoranza può lanciare l'iniziativa ma anche le associazioni quindi le associazioni risultano come fosse hanno un ruolo non è obbligatorio per loro avere quel ruolo ma possono essere coinvolte in attività appunto di promozione della democrazia diretta per cui a me pare non ho statistiche in proposito ma gli svizzeri sono spesso e volentieri associati da qualche parte ok l'associazionismo è qualcosa che conta di più ecco ma anche in Italia noi abbiamo tantissimi anche in Italia ci sono tantissime forme di associazionismo a parte quelle industriali ovviamente di tutti i tipi amatoriali eccetera quindi mi domandavo perché tu ponevi questa attenzione e noi in Italia in effetti con sta storia della democrazia diretta qualche problema invece ce l'abbiamo perché è vero quello che dici abbiamo anche votato tanti referendum abbiamo votato anche tanti referendum però la vedo ancora una cosa molto come dire ancora lontana ecco non è non è non è così vicina da come me l'hai raccontata tu ecco io poi ripeto il libro sono arrivato a pagina 50 o 60 quindi non l'ho letto tutto però mi sembra che sia una cosa cioè per dire il fatto che voi andate a votare voi svizzeri votate ogni 3-4 mesi per noi italiani non credo che funzioni questa cosa qui non lo so io la domanda la faccio più a voi che siete al tavolo che non a Leonelo io ho avuto la sensazione qualche volta che su alcuni temi quando facevano c'è stato un periodo dove hanno fatto 3-4 referendum tutti insieme ci hanno dato delle schede da votare la gente fosse più seccata che coinvolta ho avuto questa sensazione io posso intervenire prego su questo argomento prego effettivamente anche per gli svizzeri costa parecchio è un impegno e anche per questo quasi mai la partecipazione supera il 30% 20-30% perché studiarsi questa roba qua è un lavoro e esiste la buona educazione perché me lo sono sentito dire diverse volte forse anche Maurizio l'ha sentito meglio non votare che sbagliarsi a votare per cui chi non ha una convinzione per aver studiato bene la materia non va a votare la partecipazione i referendum i referendum italiani col quorum di partecipazione nemmeno approvatimo ma proprio di partecipazione al 50% non passerebbero mai ma qui non c'è il quorum e va benissimo così perché quei pochi che vanno a votare però sono gente convinta e non solo l'effetto positivo sul sistema rappresentativo che perde il potere il monopolio del potere legislativo resta intatto cioè chi va a votare è un campione significativo della cittadinanza e questo è quello che conta per cui diciamo capisco assicuro che anche per gli svizzeri votare queste quattro volte e poi non è un tema qui ce n'erano cinque tutti molto difficili e quindi è impegnativo conosco degli svizzeri che si mettono lì studiano e poi ti dicono meglio non votare che sbagliarsi votare ma gente impegnatissima in politica e anche il mio vicino di casa consigliere comunale anche lui è stato il primo che mi ha scioccato gli ho detto come cosa hai votato ah non ho votato come tu non hai votato no non ho avuto tempo per farmi le idee meglio non votare che sbagliarci a votare ecco quindi diciamo è un onere è un costo diciamo di impegno però grazie al fatto che non c'è il quorum l'effetto benefico sul sistema rappresentativo resta intatto bene e Leo è arrivato anche Nicola Ragno di Più Democrazia Italia e saluto buonasera a proposito no Nicola è vero vorrei che Nicola ci parlasse un attimo di Più Democrazia Italia perché Leo nella sua breve tra l'altro Leo perché sei stato abbastanza veloce lezione di oggi a un certo punto ha parlato di voi io sono venuto non so come perché su internet si trovano tante cose e qualche volta si trovano cose buone sono venuto in contatto con voi perché ho trovato il documento fare il cambiamento in 27 punti me lo sono studiato in fondo a quel documento c'era il nome di Angelo Sturni che non so adesso se è ancora qui o se è andato via e c'era chiaramente il nome di Leo Zaghini quindi il filo è bello è bello robusto voglio dire per poi arrivare a parlare con voi e se ci vuole parlare un pochettino di Più Democrazia Italia perché credo che interessi tutte le persone che sono qui stasera grazie allora io mi chiamo Nicola Ragno sono il portavoce di Più Democrazia Italia noi la prima cosa che devo dire è che tutte le cose che noi facciamo cerchiamo di farlo in modo democratico tutte le votazioni qualsiasi cosa cerchiamo sempre di avere un punto comune se non si arriva a votare non decidiamo questa è la prima cosa importante perché per noi siccome la democrazia è importante anche all'interno del gruppo deve esserci democrazia quindi non è che io sono il presidente capo assoluto perché come ha dimostrato Strogoschi la tendenza a diventare il capo di qualcosa è facile tutti noi abbiamo questa tendenza non so perché ancora non sono uno studioso non sono un filosofo non sono una persona che so di una mente però purtroppo noi uomini siamo fatti così tendiamo a centralizzare e tutto e sono pochi quelli che riescono a capire che c'è bisogno di tutti gli altri per essere un gruppo quindi la democrazia è quello che ci permette di essere un gruppo di persone che vivono assieme e che decidono tutti assieme quello che serve quindi quello che noi cerchiamo di fare abbiamo iniziato circa sei anni fa nato da una costola di Quorum Zero quando c'è stato ci siamo muniti ci sono unite molte persone per votare contro quel referendum che ha avuto successo da lì io ho conosciuto grazie al partito pirata qualcuno del partito pirata di cui facevo parte poi vi spiegherò cosa è successo il partito pirata ma ho un altro discorso si stava formando il comitato velocemente vi dico che sono stato molto contento di questa cosa ho iniziato a seguire tutto e nel tempo poi facciamo anche la votazione interna ogni tanto questo per dirvi che noi cerchiamo nel nostro gruppo di fare quello se noi predichiamo la democrazia scusate la parola predichiamo però forse più enfatica è perché cerchiamo di attuarla in tutti i livelli quindi anche all'interno del nostro gruppo per quanto sia piccolo cerchiamo di farlo noi cerchiamo di far rinascere quella scintilla di democrazia che la gente ha dimenticato che c'è quindi far rinascere nelle persone quella scintilla per accendere la fiammella per far tornare a pensare che la democrazia è qualcosa che aiuta le persone non che le chiude e quindi cerchiamo di promuovere tutto quello che è democrazia soprattutto la democrazia diretta perché la democrazia diretta non vuol dire che i cittadini si buttano lì e firmano la qualunque l'ha dimostrato il libretto informativo che abbiamo fatto per il taglio dei parlamentari che in teoria era anche stato messo nel DL 26 a richiesta Maggi e che il governo aveva promesso di stampare e bandare tutti i cittadini quel libretto è stato fatto con l'aiuto di Leonello con la sua esperienza proprio come si fa in Svizzera e abbiamo sentito il seno e noi avevamo una speranza che noi italiani lo ricevessimo tutti anche all'estero purtroppo è stato disatteso e questo per dirvi che se non c'è informazione come ha fatto vedere prima Leonello in questo caso avevano 4-5 cose da fare non si può decidere qualcosa noi italiani ormai ci facciamo e questo è uno dei punti influenzare dai media dalla stampa e poi sappiamo benissimo che il nostro paese è stato fino a qualche anno fa al 72esimo posto a livello di stampa libera e una volta non era così siamo arrivati qualche mese fa avevo controllato e eravamo al 52esimo adesso siamo al 48esimo non so il perché però siamo al 48esimo a me non sembra che si è cambiato molto rispetto a 6 mesi fa però quindi cosa facciamo noi abbiamo raccolto scusate se parlo un po' di pane fresco però ci sono punti che non so che possono sembrare non connessi ma i 27 punti di cui hai parlato Massimo ti do del tu spero di potere dammi il punto del tu anche tu sono la raccolta di punti con altre gruppi di democrazia non solo frutto solo dei nostri punti noi ne abbiamo proposti alcuni non mi ricordo se 16 o 18 nel quale a Leonello ne ha fatti molti e poi abbiamo raggruppato abbiamo riunito i gruppi di democrazia quindi di Trentino e vari che abbiamo pensato trovato e abbiamo stilato questi 27 punti abbiamo chiesto tutti di proporci di dire dare una cosa siamo arrivati a votarli abbiamo anche votato la classifica per dare un impatto di priorità rispetto a quelli che si dovevano fare quindi eravamo non so 55 persone non solo tantissime è vero però intanto sono tanti gruppi diversi che hanno votato queste cose quindi per dirvi che sempre che nel nostro modo di fare c'è sempre la democrazia non deve la gente non deve avere paura della democrazia diretta soprattutto se è istruita nel senso che si ha letto le istruzioni per usarla perché i libretti informativi non sono nessun altro che delle istruzioni per poter fare quello che è giusto per noi cioè pensare pensare con la nostra testa questo è il primo punto tu mi hai fatto notare una cosa prima volevo intervenire però aspettavo che finissi la gente ha paura di andare a votare non ha paura pensa che sia troppo perché non vuole più sforzarla propriamente a pensare perché abbiamo demandato il nostro pensare a quello che dicono gli altri a quello che dicono quelli sopra di noi quello che dicono i politici o quello che dicono i nostri rappresentanti ma loro sono i nostri rappresentanti questo lo dobbiamo ricordarci noi li abbiamo votati perché ci rappresentano abbiamo votato adesso stiamo votando un po' poco perché non decidiamo proprio propriamente le nostre persone perché ci danno una lista già fatta ma questo è un altro discorso ancora però rientra nei 27 punti noi dobbiamo poter scegliere i nostri candidati e dobbiamo fare in modo che loro rispettino le nostre scelte tra virgolette se loro hanno detto che faranno le strade più belle e non ci faranno il nucleare dico due cose che sono scontate che devono farlo se non lo fanno da noi non c'è il recall ma da poco abbiamo saputo grazie a Alex Marini della regione Trentino che in California hanno usato il recall che avevano da tempo e hanno mandato a casa stanno mandando a casa un politico ce l'hanno esiste si può fare capite si può fare possiamo farlo anche noi però ci sono dei punti essenziali e i 27 punti sono la punta di un iceberg sapete che l'iceberg è sopra il 15% il 20% sotto c'è il resto che quando si gira l'ho visto in Islanda è bellissimo c'è l'azzurro che viene su poi risprofonda e sotto ci sono delle cose bellissime quindi dobbiamo tirare fuori queste cose belle che sono dentro di noi e unirci per poter fare veramente il cambiamento ognuno di noi dovrebbe contattare le altre persone e parlarne perché Leonello ha fatto anche un punto nel nostro sito Leonello ricordami come avevi messo come il titolo quello di non la paura della democrazia quello ti ricordi quando hai scritto mi senti Leonello quella cosa che hai scritto sulla aspetta comunque dopo vi dico il titolo intanto lo provo a cercare comunque il punto è che la gente ha veramente paura della democrazia perché ha paura che il voto non sia sia pilotato perché la gente voti a massa qualsiasi cosa ma perché non c'è istruzione la gente non si informa e non ha voglia di informarsi l'altro giorno mi ha parlato con una persona del comune che era nel comune di Mignola è stato uno dei primi comuni democratici in Italia e lei è stata candidata è stata dentro per tre anni poi dopo hanno raccolto 3000 firme e le hanno mandate a casa secondo me perché non avevamo capito cosa voleva dire essere democrazia l'hanno usata male in questo caso perché hanno votato 3000 persone però il punto è che lei aveva detto che era una di quelle persone che stava sul divano perché sai la gente fa fare agli altri poi vedeva suo padre che sbarrettava contro il tv per cose che non andavano a un certo punto si è stancata e ha voluto fare qualcosa ha voluto cambiare ha voluto fare cambiamento infatti si è candidata ed è diventata consigliere del comune di Mignola queste sono quelle cose che dobbiamo cercare di capire la gente non dovrebbe andare in politica perché vuole fare la carriera politica ma perché vuole aiutare gli altri oltre se stessi perché se aiuti gli altri aiuti anche te perché quando fai qualcosa per gli altri un altro esempio che vi dico l'avvocato di mia mamma 20 anni fa quando ha fatto il divorzio un giorno parlando mi disse Nicola io sono andato a scuola a proporre per i bambini una cosa la prima domanda delle prese è sapere sai qual è stata no non è stato cos'era cos'era ha detto di che partito di che sei di destra o di sinistra mi ha chiesto gli ha chiesto e allora è rimasto allibito 10 secondi scusi ma cosa c'entra sto proponendo qualcosa per aiutare i bambini non ha importanza se un bambino si è di destra o di sinistra giusto e allora sono queste le cose che ci stanno distinguendo in questo momento tu pensi sempre che la roba sia di destra o di sinistra tempo fa con il gruppo io faccio parte anche del gruppo fotografico a Bologna dove facevamo delle mostre e quant'altro il capo che c'è il capo lui era il fotografo che ci ha aiutato a diventare un po' più bravi nella fotografia famoso ha detto tu sei di sinistra perché ho detto delle cose e io gli ho detto guarda che qui non c'entra se di destra o di sinistra questa cosa viene fuori troppo spesso quello che serve se la strada fare una strada mettere a posto una strada di destra o di sinistra avere l'acqua che non sia a pagamento di destra o di sinistra il comitato che ha mandato in Parlamento ha fatto una lipa con fatica ha raccolto 50.000 firme e ha cercato di aiutare gli italiani facendo in modo che i bini comuni siano una cosa comune è di destra o di sinistra questo che dobbiamo domandarci è una cosa che va bene che serve agli italiani o è di destra e sinistra ha importanza se quella cosa l'ha fatta da destra o da sinistra se è una cosa che serve e questo che dobbiamo affrontare quando Lionello parla dei governi collegiali almeno così ho capito poi magari mi corregge non parla dei governi collegiali nel senso stretto come si usa in Svizzera ma lo parla nel senso che le persone all'interno del Parlamento che sia comune o che sia lo Stato della Svizzera non so se ve l'ha già detto tentano di fare le cose per le persone non per il partito perché lo dice se loro fanno qualcosa che dice il partito viene mandato via perché è considerato una persona che non pensa con la propria testa loro fanno questo questo dobbiamo ricordarci in California hanno fatto il recall ma poi Taiwan Oregon e altri paesi usano il libretto informativo stiamo parlando di Taiwan uno dice Taiwan no Taiwan è molto più avanti di noi e poi parliamo sempre a California l'altro giorno un altro un altro nostro socio ha fatto una riunione e ha detto ma la democrazia in Italia non funziona perché siamo troppi italiani allora lui gli ha detto lo sai che in California hanno la democrazia e sono solo 40 milioni noi siamo solo 56 quindi perché la funziona e da noi non dovrebbe funzionare su una cosa penso che abbia ragione quella persona ma da noi non funziona perché noi lo ripeto non studiamo come ha detto Lonello non studiamo quello che dobbiamo votare questo è il punto adesso io non so se questo dice tutto del nostro del nostro comitato però quello che vorrei far capire è che se noi predichiamo una cosa e anche la democrazia è predicare quando tu la devi vivere se non la vivi dentro di te è inutile non ti devi far prendere da quello che dicono gli altri per parole presa noi quante discussioni facciamo siamo arrivati anche a alzarsi la voce tra di noi noi sono sei anni che usiamo Gizzi Meet per parlare perché lui in Svizzera è un altro paese io sono di Bologna è un altro Milano cioè noi quante volte abbiamo discusso dimattamente in videoconferenza ma perché ci teniamo un conto è discutere e anche volendo litigare però vengono fuori quelle emozioni che ci permettono di capirci però da quello lì deve venire fuori quello che c'è dentro di noi ma per riuscire a trovare un accordo perché dobbiamo ricordarci che la nostra libertà finisce da venire da quella degli altri nel mezzo troviamo il punto comune no? se dico delle cose sbagliate ditemelo adesso il microfono spento Massimo magari trovo Massimo il punto d'accordo perché io io l'ho letta le tue 27 i tuoi 27 punti e quando mi parli di quando mi parli bellissimo di facciamo facciamo la legge elettorale con le preferenze eh magari ma questi le preferenze non ce le daranno mai la legge elettorale non se ne parla più di questo paese della legge elettorale perché a questi bastardi gli sta bene questa specie di schifezza che hanno chiamato Rosatellum e il nome della persona a cui noi vorremmo poi far riferimento e che dovrebbe poi far riferimento ai suoi elettori non la vogliono mettere no? io vi ricordo sono qua perché faccio faccio proseltismo alla democrazia posso dirlo? se andate a vedere il nostro sito c'è anche un eh un punto dove facciamo propaganda diciamo propaganda dove mettiamo eh mettiamo la pagina di eventi che ci sono uno di questi eventi è il fatto che eh il costituzionalista eh Felice Besostri sta tentando per la terza volta di eh far diventare incostituzionale questa è la legge elettorale e già ne è riuscito a far fare due non è che lui l'ha fatta ha presentato la cosa e la corte costituzionale ha detto sì quindi non è che noi facciamo una cosa devi fare le cose per legge lui ama la costituzione come ama sua moglie proprio l'ha detto cioè bisogna amarla la costituzione per poterla eh lui la conosce non semplicemente a memoria cioè quando ne parla un giorno mi ha fatto un'unione che c'erano altre trenta persone gliel'ho chiesto e lui ha detto queste cose cioè la costituzione la devi amare se non l'ami non lo puoi comprendere è come quando tu vuoi andare a giocare a calcio vuoi andare a giocare a tennis vuoi stare con i tuoi figli li ami e quindi cerchi di capirli e di sostenerli questo è il punto la costituzione l'hanno detto molte hanno detto che è una delle migliori la nostra costituzione ma l'unica cosa è che non viene applicata in Italia se ci fate caso molte cose non vengono applicate l'altro giorno sempre grazie a Alex Marini abbiamo scoperto che esiste una cosa bellissima in un regamento del del Senato le LIP che arrivano al Senato proposte dai cittadini nel regolamento c'è scritto che entro un mese deve essere assegnata entro due mesi deve essere deliberata altrimenti va direttamente in calendario per essere argomentata ma di questa cosa noi non abbiamo visto niente e ho scritto personalmente sempre e sempre l'accordo ai vari parlamentari che si occupano della prima commissione degli affari costituzionali sono 24 nessuno mi ha risposto neanche quando ho parlato con una dei senatori a una conferenza del CDC non mi ha detto niente su questa cosa capite mentre la vicepresidente della Camera ha detto che prima che le parlassi io ha detto che vuole spingere avanti il referendum propositivo questo è uno dei nostri punti e il secondo e mi pare il secondo non è il terzo non ricordo il primo punto del quale io ho tradotto la condanna ONU quella per la raccolta firme non so se avete presente questa cosa se è stato condannato dall'ONU entro marzo dell'anno scorso lo Stato avrebbe dovuto prendere provvedimenti siamo a giugno del 2021 non l'avevo neanche tradotto l'ho tradotto io con l'aiuto di un amico abbiamo anche cercato di rimettere la parte avvocatese dentro e secondo me ha fatto un bel lavoro comunque perlomeno si può leggere da lì si capisce che se noi dal 1970 circa che noi non possiamo fare referendum perché dobbiamo chiamare o il messo comunale o chiamare gli avvocati che sono cosa notaio notaio ma poi il notaio deve essere pagato 50-100 euro l'ora o quello che è o per ogni firma non ricordo ma quindi soltanto le grandi organizzazioni possono fare queste cose o perché glielo fanno a gratis o perché hanno i soldi per pagarlo dimmi Nicola ce la puoi far avere questa traduzione per favore è nel nostro sito vai nel nostro sito è lì ah ok c'è tutto è più democrazia italia il sito punto org esatto c'è tutto lì c'è tutto se non trovate qualcosa abbiamo messo adesso un giorno metterò metterò anche i link di qualcosa che Leonello nel frattempo ha cantato sulla democrazia perché ho guardato sui suoi vidi e sono molto divertenti ma molto puntuali e metterò anche nei media qualcosa del genere perché sembrano a volte ci sono delle piccole cose delle piccole frecciatine che sono interessanti da riconoscere adesso li cercherò qualcuno e li metterò ancora il punto è che il primo punto che noi riteniamo opportuno voi dovete vedere voi cioè non devo convincere nessuno andate a leggere è poter fare la raccolta firme e qualcosa si sta muovendo perché intanto il governo ha detto che per il 2022 farà la raccolta digitale secondo me è tardi o tardi perché Stefan Launz che ci ha scritto anche lì ho messo sempre nel nostro sito ha proposto con Change.org di raccogliere le firme per dire al nostro governo che si può fare prima e anche Eumans sta facendo una raccolta firme per questa cosa qua però vedete il punto per esempio Eumans non aveva visto che c'era già qualcuno che lo faceva è questo che noi stiamo cercando anche di fare con Più Democrazia d'Italia raccogliere quelle cose unire quelle cose che i gruppi in modo che si è tutti informati perché se noi abbiamo fatto una cosa che può servire a te o se tu hai fatto una cosa che può servire a lui a Tizio e un'altra fatta a Caio dobbiamo unire le nostre forze in questo senso perché oggi questa cosa che ti sto dicendo magari aiuta te a fare una certa cosa che non sapevi che per esempio il BN ha fatto una LIP ed è in Parlamento oppure non sapevate che il regolamento del senato dice che una LIP arrivata al senato deve andare entro un mese deve essere data alla commissione e la commissione deve farla entro tre mesi su queste piccole cose soltanto quando si parla tra i gruppi si hanno l'esperienza comune su tutte quelle cose che ci aiutano ad andare avanti e anche non solo andare avanti ma anche proprio a consigli piccoli consigli piccole cose ma tu hai fatto così non lo sapevo allora ti aiuto prova a fare questo e vedere se l'altra cosa è importante è il referendum un po' positivo se passi il referendum un po' positivo che adesso ferma il senato noi abbiamo un'arma importante la dico arma perché è una parola grossa io non vorrei mai usare arma perché però è una parola che dà effetto però è uno strumento che è uno strumento è uno strumento nelle nostre maie dei cittadini che è molto più importante delle LIP stesse perché noi in questo momento possiamo soltanto fare il referendum abrogativi se riusciamo a farli se raccogliamo abbastanza firme perché devono essere validate capisci? capite? questo è il punto noi siamo impediti da anni di fare queste cose se non mi ricordo male siamo riusciti a fare solo tre o sette referendum nel 1970 a oggi noi i cittadini normali a meno che non siamo appunto partiti o grosse organizzazioni che lo riescono a fare perché riescono a avere le possibilità di raccogliere firme e autenticarle noi facciamo fatica anche il documentato prodotto a per raccogliere le 50.000 firme ha fatto veramente fatica e io vi giuro quando sono andato là a parlare con loro la prima volta a Roma ho quasi pianto per il fatto di conoscere delle persone che io ho capito che non eravamo soli c'erano delle persone però il punto è un altro ho capito che non dovevamo fare qualcosa di più per unire questi gruppi perché se non ci uniamo se ognuno di noi pensa che la propria cosa sia quella salvifica cosa ha fatto l'impero romano nei 3.000 anni di vita e di impera però solo che noi ce lo facciamo da soli siamo talmente abituati a fare queste cose a vivere in questo modo che ce lo facciamo da soli perché per noi soltanto la nostra cosa è quella migliore adesso io non vorrei essere non so se sto esagerando però vi dico quello che penso posso aggiungere anche lui fa di parte di più democrazia d'Italia e di più democrazia d'Italia e di più democrazia d'Italia è il migliore già percepisco che ma sono punti che sono anche magari contrastanti alternativi e quindi come si fa in queste 27 a trovare un filone logico di ragionamento allora il problema è questo noi come comitato non andiamo a giudicare quello che è buono quello che è cattivo quello che preferiamo non è la nostra funzione la nostra funzione è fare una strada per tutti comune per poter arrivare ad avere la possibilità che tutti i gruppi con le loro proposte specifiche in cui credono possono presentarle ai cittadini come proposta di legge di inizia popolare e che possono testarsi con la gente per dire la gente approva o non approva la tua proposta come modalità ma non solo non è questione di dire vale uno o l'altro no come c'è in Svizzera ci possono essere proposte più di un tipo di tipo costruttivo di partecipazione di leggi che prevedono chi li prevede quelli a caso chi li prevede li prevede in un'altra maniera cioè tutti questi qui non siamo noi a giudicare è i cittadini il popolo sovrano che dirà questa la prendiamo questa non siamo d'accordo e in un posto applicheranno un sistema in un altro in un altro basta che sia legittimo codificato e che alla fine sia il voto popolare che dice ok non diciamo l'opinione del gruppo che l'ha organizzato come che possa diventare come dire vincolante come fosse una norma di legge non si può arrogarci come comitati di fare proposte di legge solo perché l'abbiamo creato noi noi riteniamo che alla fine ci deve essere in fondo al percorso un confronto parlamentare e se il parlamentare dice no non ci crediamo meno si va a votazione e chi se ne possono mettere più di uno cioè c'è tutta una strategia di aggregare tutte queste iniziative in un percorso autostradale se vogliamo dire dove e in queste cose qui il referendum propositivo proposta popolare e vincolante dopo un inter di questo tipo è il percorso cui tutti quelli che hanno delle idee particolari di gestire la partecipazione o la decisione su alcuni argomenti devono secondo noi praticare altrimenti è una lotta di caste opinione di caste di uno dell'altro ma non è un giudizio di popolo e siamo sempre è un confronto di caste alternative capisco anche se quelle buone o quelle cattive ma oggi sono buone domande con il confronto di interesse diventano cattive anche loro e allora l'unico problema è non dargli questa possibilità qualunque caste sia che propone delle cose intelligenti certo penso di rispondere alla domanda che dicevi Massimo che la tua complessità è questa noi prendiamo tutti non cancelliamo nessuno creiamo la strada perché tutti vadano attraverso un percorso giuridicamente costituzionalmente nessuno può contestare perché se dai appena l'opportunità di contestare costituzionalmente le scelte siamo fragati ci mettono una reserva indiana ci chiedono dentro un recinto e ci lasciano sfogare questo è un po' cosa da evitare infatti quello che quello che può fare anche è che molte volte c'è il conflitto di interessi e quindi quando si va a decidere qualcosa per quanto uno sia in buona intenzione molte volte si confonde cioè come dicevo all'inizio noi tendiamo a prendere il nostro io incosciente sul fatto che pensiamo di aver ragione tende a prendere il sopravvento se ci confrontiamo con gli altri se diamo la possibilità agli altri di dare la loro opinione e quindi quando si va a fare una votazione il cittadino può decidere allora quello è una cosa corretta quindi noi sosterremo tutte quelle cose dove ci sono cittadini dove si sostiene la possibilità di andare far andare a votare il cittadino e far scegliere loro che sia la lipo un referendum quelle sono iniziative che noi possiamo sostenere perché come ha detto Erminio non siamo né di destra né di sinistra come ho detto io prima e come ha detto Erminio non vogliamo che vinca una persona o un'altra vorremmo soltanto che le persone possano decidere in piena coscienza questo è il punto se la persona non può decidere allora non va bene non è una cosa non è democrazia certo credo che Raffaella voglia parlare lazzate la mano forse io scusami direi che siamo andati siamo a mezzanotte e mezza quindi Raffaella ha la possibilità di chiudere la serata facendo la sua domanda infatti è una domanda un po' riepilogativa forse era in chat già da un po' mi schiace insomma non avverrà potuta leggerli prima era più che altro una considerazione e credo che forse ben si possa sposare con quanto appunto detto finora perché tiene appunto il referendum e prende spunto proprio dalla proposta sul tema dell'etanasia legale che è così appunto attuale in questi giorni ecco io appunto volevo sponsorizzare eventualmente le modalità digitali che non sono solo attuali ma inclusive perché possono essere rivolte anche ai disabili e coloro i quali oggi non abbiano possibilità partecipative mediante medotiche tradizionali come il cartaceo in quanto la partecipazione secondo me deve essere democratica e un diritto di tutti di tutti i cittadini è segno di innovazione e soprattutto di inclusione quindi come abbiamo ben citato prima la firma digitale riconoscere la tecnologia aprirsi all'innovazione quale espressione appunto di rinnovamento e di riconoscimento di quei diritti che siano atti a rafforzare la democrazia stessa e volevo anche prendere spunto dalla necessità dello studio di riprendere un percorso di studio così come avete appunto affermato affermato finora perché lo studio e la conoscenza devono tornare ad essere centrali per lo sviluppo delle coscienze critiche delle persone e disponibili per chiunque appunto desideri desideri accedervi perché come ci dicevamo forse non tutti sono così propensi allo studio ma magari chi vuole e forse non riesce a farlo e non può farlo grazie Raffaella grazie a voi per l'ascolto no figurati Leonelo hai capito la domanda io purtroppo facevo lo sforzo ma in più come dicevo la voce delle donne normalmente la sento meglio la riposto la riposto mi dispiace tantissimo no no non ho sentito proprio mi sono sforzato ma non ci sono riuscito se qualcuno mi traduce la domanda chiedo scusa sono sordo prego prego professore succede questo con queste orecchie elettriche che ho dentro il team che mi urlano alla fine delle riunioni sono più sordo che all'inizio purtroppo succede questo allora no ti sintetizzo a parte che se vai in chat la puoi leggere la puoi leggere è l'ultima domanda che ha fatto quindi la trovi subito c'è un bel testo grazie è un bel testo bravo se lo leggi così intanto volentieri lo leggo e volentieri grazie mille intrattengo un attimo gli ostini di quelle ultime cose Massimo prego lo so che prendo la parola alla fine però io vorrei ricordarvi questo cerchiamo di essere uniti nel di condividere le nostre esperienze e essere aperti alle altre proposte cercate cerchiamo cercate cerchiamo sempre di ricordarci che quando facciamo qualcosa deve essere il cittadino poter decidere perché soltanto quello legittimizza ogni scelta se il cittadino non può scegliere è una costrizione e quindi quando facciamo qualcosa una votazione quando dobbiamo sempre ricordarci che devono esserci delle persone che devono votarla e quindi dobbiamo essere sinceri nelle proposte del sì e sentire il no tutte queste cose le abbiamo fatto con il libretto deve essere una cosa che deve diventare intrinseca nelle nostre scelte nelle nostre formulazioni quando facciamo qualsiasi cosa deve essere la possibilità di poter votare in modo che il cittadino possa scegliere leggendo delle argomentazioni di entrambe le posizioni altrimenti non è una scelta è una costrizione oppure qualcuno il punto è un altro almeno in Svizzera fanno una scelta ponderata di non andare a votare ma hanno letto hanno provato a leggere e sanno che non sono convinti di quello che andranno a votare quindi è una scelta ponderata da noi in Italia invece non vanno a votare semplicemente perché o non hanno voglia o perché pensano che tanto sia una cavolata questo è il punto c'è qualcuno che gli dice di non andare a votare c'è il politico che gli dice non andate a votare ed è anche vietato ed è anche vietato però è il problema che non c'è nessuna cosa che gli impedisca di farlo quindi io se ci fosse magari il recall capito allora se iniziamo da questi punti iniziamo a essere a spingere per il referendum propositivo cerchiamo di trovare la massa critica XR mi diceva Luca dice che ci voglia almeno il 3% di persone ma se noi fossimo il 10% 2 milioni 3 milioni 4 milioni di persone 20 milioni di persone che chiedono una cosa se noi firmassimo una lippi invece che con 50 mila firme con 10 milioni di firme non sarebbe più importante di 50 mila firme già 50 mila sono tante comunque sicuramente 46 milioni aventi diritto al voto però se noi ci buttassimo con 1, 2, 3, 4, 5 milioni di firme non è ancora più importante se è un referendum invece che raccoglie 5 mila firme 500 mila firme ne raccogliessimo 5-10 milioni non sarebbe importante un'altra cosa e poi dico anche le ECI europee sono una cosa importante ci fanno decidere ci fanno decidere in Europa non è che ci fanno decidere almeno il Parlamento europeo è costretto a prendere in considerazione la nostra proposta e ci deve raccogliere un milione di firme diviso in vari con minimo ci sono delle regole ci devono essere un tot di percentuale per un paese un altro ci devono essere almeno 7 paesi diversi ma la gente cito di nuovo i humans ha fatto una cosa la gente non sa che cos'è le ECI capisci? e questo è il punto la gente non è informata l'informazione è alla base di tutto sempre quello è il punto scusami prego leonello prego hai letto? grazie grazie a Raffaella della domanda interessante diciamo nel mio piccolo perché sono solo uno che ha la caratteristica di 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 vivere in Svizzera per cui guardo le cose dal punto di vista anche Maurizio Manca peraltro vive in Svizzera per cui può dire la sua il tema diciamo del strumenti digitali certamente la tecnologia può aiutare e aiuterà la democrazia e ne siamo ne sono e ne siamo in molti sicuri e resta il fatto che dal punto di vista della Svizzera diciamo posso dire che carta e matita vanno ancora molto bene ma la preoccupazione interessante del problema proposto sono anche venire incontro a chi ha degli handicap dei problemi eccetera ecco quello è anche molto importante e per quel fatto lì una delle caratteristiche del sistema politico svizzero è che le votazioni come quella che è finita domenica scorsa praticamente è stata aperta un mese cioè abbiamo ricevuto il libretto che ho già fatto vedere tante volte il materiale di volto a casa un mese prima e diciamo a parte il mio handicap delle orecchie non ho handicap per il momento nelle gambe ma anche avendo quello lì diciamo il fatto di avere un lasso di tempo lungo per poter pensare informarsi pensare di nuovo e votare e portare il proprio voto alla buca delle lettere oppure in comune oppure una volta adesso però qui dove sono io non si può più all'ufficio di polizia cioè le possibilità di voto sono molto articolate e questo viene incontro anche a chi ha degli handicap questo non ci deve fare rinunciare a avere diciamo strumenti tecnologici soprattutto per esempio a mio avviso per la raccolta delle firme che però va semplificata è in Svizzera anche se su carta come raccontavo prima è per fortuna degli svizzeri molto semplificata però mi raccomando di tenere presente anche che purtroppo parlare di democrazia diretta e coniugare subito alla democrazia diretta l'uso di strumenti informatici digitale eccetera può spaventare alcuni e quindi io raccomando nella prostra lo raccomando per primo a me stesso nella propaganda della democrazia diretta che faccio o degli strumenti di democrazia di tenere presente questa potenziale paura per cui parlarne sì perché è anche utile ma al secondo livello di approfondimento e spiegare che la democrazia si può esercitare con le forme dolute per cui per esempio allungando i tempi del voto fornendo gli strumenti giusti eccetera eccetera anche con carta e penna in modo da eliminare questa paura che molti sentono quando si fa il connubio democrazia diretta quindi voto digitale per esempio nel cantone dove vivo c'era il sistema digitale di voto non sono mai riuscito a usarlo perché era talmente complicato che alla fine decidevo di andare a votare il comune che poi è qui vicino cioè votare in comune poi per me significa prendere una busta e metterla nella buca delle lettere del comune non è che devo andare lì a un certo orario eccetera è formalità per cui è semplicissimo anche per qualcuno che fosse handicappato è semplicissimo quindi ecco farei questa distinzione ciò che è importante sono gli strumenti di democrazia di esercizio della democrazia semplificati al massimo che consentono la riflessione il tempo di voto eccetera eccetera poi con prudenza a menzionare anche nuovi strumenti democratici ecco io questa è la mia visione della cosa e la mia esperienza oltretutto e poi finisco nel cantone dove vivo alla fine e anche nel cantone di Ginevra mi risulta non so a Losanna Maurizio ma dove vivo e a Ginevra i sistemi di voto elettronico sono stati inseriti e poi disabilitati quindi diciamo gli svizzeri posso raccontare che hanno una certa prudenza nell'uso di questi sistemi ho finito grazie professore grazie mille grazie grazie anche a Raffella che ha fatto una bellissima domanda allora signori siccome è mezzanotte e mezza provo a tirare delle piccole conclusioni molto sintetiche ovviamente vi ringrazio tutti per essere stati presenti perché ci avete dato la possibilità di ragionare in profondità ma forse questa è soltanto una delle tante serate che faremo su questo argomento perché mi sembra di capire che noi noi ci chiamiamo pensare insieme come gruppo Nicola Erminio e noi pensatori adesso abbiamo diciamo da suggerire a Leonello e Maurizio di scrivere qualcosa sul blog delle stelle per per approfondire la democrazia diretta come come la vedono in Svizzera ma per cercare di portarla sempre più anche qui da noi ci abbiamo l'opportunità grazie ad Angelo Sturni di farci raccontare per bene i passi da gigante che ha fatto Roma che non sa nessuno rispetto a queste a questi regolamenti comunali e a queste opportunità che ci danno su Roma di avere addirittura la possibilità di fare i tre referendum abrogativo propositivo e confermativo cosa di cui nessuno sa niente e poi ci siete voi di più democrazia che avete fatto già un sacco di bellissimo lavoro che io ho letto ma non in modo non in modo approfondito e sul quale torneremo con una serata apposita perché i temi che voi proponete sono temi che ci stanno che ci stanno molto a cuore in sostanza diciamo che ci rivedremo presto dateci un po' di tempo per organizzare la serata è stata registrata quindi diciamo tra poco verrà inserita nella nostra chat di Telegram se ne volete copia io la passerò poi a Leo e comunque siamo in contatto sia per questo che per gli altri documenti